E' posto, buongiorno, buongiorno, che credo che sia il caso di cominciare, siamo già 20 minuti di ritardo e quindi è bene iniziare subito, abbiamo dunque, io dovrei avere un programma da qualche parte, ma me lo ricordo a memoria, abbiamo cinque relazioni stamani, io ho chiesto ai relatori di parlare per 18 minuti ciascuno, più cambi eccetera, schiarimenti di voce eccetera eccetera, prendono qualche altro secondo e di lasciare alla fine di ogni relazione, qualche minuto per domande, osservazioni a ciò che i relatori hanno detto. Cominciamo con la relazione di Marco Marsili che ci dice tutto sopra l'orizzonte demografico del nostro paese, quell'orizzonte che voi sapete non essere brillantissimo per ora e quindi l'Istat da qualche tempo ha preso di petto la questione delle previsioni demografiche, credo che sia importantissimo il fatto che queste vengano continuamente aggiornate perché le cose cambiano molto velocemente, già vedete i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi dieci anni per causa della crisi ma non solo per causa della crisi e quindi vanno effettivamente riviste, aggiornate in continuazione perché le cose anche in demografia cambiano, quindi questa vecchia storia che le previsioni demografiche sono stabili, non siamo come gli economisti che invece le devono fare ogni 15 giorni, ogni 15 giorni cambia l'orizzonte, però anche in demografia gli orizzonti cambiano velocemente. Marco Marzili ha la parola, starà ai patti del tempo. Spero. Buongiorno a tutti, per me è un grande onore essere qui in questa sessione così importante, così interessante, soprattutto alla presenza del professor Ribacci che per noi demografi è sempre stato un maestro. Colgo occasione anche per salutare molti dei colleghi che hanno condiviso con me parte della mia carriera professionale, ho diversi in questa stanza, quindi un caloso saluto a loro innanzitutto che hanno spesso lavorato insieme a me e che adesso andrò per mostrarvi. Dunque a me era stato chiesto di predisporre un contributo che parlasse del futuro demografico del Paese, in realtà predisponendolo mi sono reso conto che non era soltanto di quello che volevo parlare, ma mi interessava parlare più in generale degli scenari demografici, cioè che cosa dal punto di vista degli utenti voi vi trovate di fronte quando avete a che fare con questo tipo di informazioni e quindi correderò l'analisi dei risultati che riguarda soprattutto il Paese con una serie di informazioni o meglio raccomandazioni che in ambito internazionale in questi ultimi anni si stanno affrontando. Dovete sapere che lo scorso anno nell'ambito di una task force condotta dall'Unece, una task force che aveva come obiettivo quello di monitorare i processi produttivi nel campo di pensione demografiche da un lato, ma anche quello di valutare l'attenzione che poi gli utenti prestano a questo tipo di esercizio, è emerso sostanzialmente che c'è scarsa attenzione dal punto di vista della predisposizione di questi scenari, ovvero dal punto di vista dei metadati, dal punto di vista della costruzione e della definizione dell'ipotesi. Per cui quello che vi accingo a presentarvi non è soltanto il futuro demografico dell'Italia, ma cercherò di prenderlo un po' più da lontano. Innanzitutto vi illustrerò, come noto, quello che è oggi il mercato per quanto riguarda i produttori di pensioni demografici. Questo mi consentirà poi di fare un discorso un po' ad ampio spretto all'inizio sulla condizione mondiale, di questo punto di vista, cioè quali sono le prospettive demografiche mondiali e poi man mano mi calerò dentro l'Unione Europea in particolare e infine parlerò dell'Italia. Quando arriverò a parlare dell'Italia o più del futuro elemento demografico, mi interessa molto sottolineare l'aspetto delle cosette trappole demografici, ovvero pitfalls, quelle che in qualche modo sono come delle mine che ci stanno aspettando da qui a qualche decennio e che sono prossime in qualche modo ad esplodere e che sono un po' dei casi un po' particolari perché sembrano un po' in controtendenza rispetto alla logica aspettativa di ognuno di noi, ma in realtà invece ce li ritroveremo tra i piedi molto presto. Allora, partendo un po' la lontana, diciamo, se noi andiamo in qualunque dizionario, vediamo che quando troviamo il termine previsione, diciamo che la previsione è un calcolo o una scommessa riguardo al futuro, ma è condizionata al fatto che noi abbiamo in possesso delle informazioni che possiamo utilizzare. Questo come definizione generale. Poi, passando ai previsioni demografiche, questo è bene saperlo, queste sono costruite con lo scopo di definire le scene dei futuri della popolazione, molto spesso, come sappiamo, vengono articolate in base a una serie di variabili, il sesso, l'età, le più importanti, ma non necessariamente e non sempre soltanto queste. Basta ricordare, per esempio, che anche è una semplice previsione fatta utilizzando un tasso di incremento della popolazione da un anno all'altro, che poi di fatto è la prassi più correntemente utilizzata, ad esempio, dai comuni, quando attuano i loro progetti sui piani regolatori, cosa fanno? Prendono il tasso di incremento e lo ottimano la loro popolazione, lo proiettano l'anno successivo e al decennio successivo e definiscono il fabbisogno di abitazioni sulla base della loro aspettativa di crescita costruita su quel semplice tasso di incremento. Quindi, quando parliamo di previsioni demografiche, parliamo di tutto. Poi è molto più interessante, invece, l'articolazione rispetto all'approccio statistico. Diciamo che esistono almeno due, il più importante, il primo, il più importante e il più importante, quello più noto, più conosciuto, più praticato, l'approccio del corretto deterministico, che sostanzialmente è un'elaborazione sullo sviluppo di una popolazione che può essere riassunta in un singolo set di risultati, che sono ottenuti a loro volta in un singolo set di ipotesi. Ad esempio, faccio un'ipotesi sul tasso di rinunità totale, faccio un'ipotesi sulla speranza di vita, faccio un'ipotesi sull'evoluzione dei movimenti migratori, metto insieme e traccio una possibile traiettoria nel futuro. Generalmente, questo tipo di approccio non dà, e questo è un aspetto di filo avanti, che mi preme sottolineare, non dà informazione riguardo a quella che è l'incertezza associata a questa previsione. Anche se in realtà, anche attraverso questo tipo di approccio, che è stato peraltro un approccio che l'Istat ha adottato fino a qualche anno fa, è possibile usare delle varianti così e alternative, cioè definire dei contorni sempre in maniera deterministica che danno un po' meno l'idea di cosa uno ci può aspettare in bene o in peggio. Molto più interessante e molto più moderno, anche se scarsamente praticato, l'approccio probabilistico, che è quello che l'Istat ha abbracciato da qualche anno, che è un'elaborazione un po' diversa, un po' più complessa, che si può sintetizzare come lo studio di una popolazione che può essere riassunta in un set multiplo di valori, non solo singolo, ma molti valori, o addirittura in una distribuzione di probabilità. Qui le variabili in gioco sono distribuite casualmente, non sono tutte predibili con certezza e soprattutto non sono tutte probabili allo stesso modo. E quindi questo ci dà informazione in qualche modo su quella che è l'incertezza associata alle previsioni democratiche. Cioè abbiamo il livello previsto, ma anche il campo di incertezza futura. Quando ci approcciamo alle previsioni in generale, vediamo che ci sono diversi produttori a livello mondiale. Qui vengono riassunti in questa tabella due principali categorie, ovvero gli organismi internazionali e gli istituti nazionali di statistica. All'ielo degli organismi internazionali abbiamo le previsioni che di anni vengono condotte dalle Nazioni Unite, la United Nations Population Division e da Aerostat. Sono strumenti molto fondamentali, molto importanti, però anche loro hanno, come del resto le altre, dei punti di forza e dei punti di bolezza. Ad esempio quando prendiamo le previsioni condotte e prodotte dalle Nazioni Unite, sicuramente il principale punto di forza di questo prodotto è che abbiamo veramente l'occhio sul mondo, possiamo vedere la misura del cambiamento demografico a livello globale e abbiamo la piena confrontabilità tra i risultati di diversi paesi. Invece magari come limite in questo caso abbiamo il problema a volte che c'è un uso pesante di metodi di stima, soprattutto per quanto riguarda la proporzionità di base e questo può condizionare a ribasso la qualità poi anche delle stesse previsioni. Scendendo a livello inferiore abbiamo Aerostat che ci permette di avere uno spettro ad ampio raggio di tutti i paesi dell'Unione Europea, ma non solo e quindi anche qui abbiamo piena comparabilità se dobbiamo fare un confronto tra quello che sarà il futuro dell'Italia e il futuro della Francia o della Spagna ad esempio, è sempre bene indirizzarsi per questo tipo di prodotto. Il problema semmai in quanto riguarda le previsioni di Aerostat è che hanno un uso strettamente, fortemente indirizzato alle politiche sociali ed economiche, quindi hanno in qualche modo un uso politico strumentale e questo comporta che siccome poi le decisioni devono essere prese a livello di singoli paesi, cioè tutti quanti i paesi devono essere d'accordo su quello che Aerostat propone, non c'è un livello di piena autonomia per quanto riguarda l'esercizio fatto da Aerostat. A livello inferiore poi abbiamo molti paesi a livello internazionale che produrono loro previsioni, non tutti, ci sono paesi che non le fanno ad esempio perché non hanno mandato per poterle fare, ma la maggior parte dei paesi di situazione statistica sì lo fanno, con diversi approcci, approcci deterministici, probabilistici, con più o meno scenari che contengono anche previsioni subterritoriali e via dicendo. Qui il vantaggio principale è chiaramente che le previsioni fatte per il singolo paese, dal singolo istituto, sono sicuramente più interessanti perché hanno una ampia profondità di analisi, permettono, hanno una migliore accuratezza dell'ipotesi sicuramente e soprattutto c'è la possibilità di introdurre il breakdown a livello territoriale. Questo come schema principale, cioè come nessuno di questi tre enti, Nazione Unite, Aerostat e Estudio Nazionale di Statistica può essere consigliato meglio di un altro, ma le previsioni possono essere fatte da tutti, devono essere fatte da tutti e essere l'utente a capire qual è quella che fa, che più fa il suo uso, il suo interesse. Qui in questa tabella vi riassumo, ma molto velocemente altrimenti mi brucia tutto il tempo, quello che accade a livello mondiale. Questa è una tabella di sintesi che ho estratto dal sito Nazione Unite, che sanzi vi consiglio se siete interessati di visitare, che è molto interessante, permette un sacco di analisi anche a livello interattivo, molto divertenti anche. Questa tabella riporta l'età mediana popolazione da oggi fino al 2100. La cosa interessante è qui che ho messo il ranking delle prime dieci paesi oggi e poi in prospettiva nel 2040, nel 2070 e nel 2100. In veloce sintesi cosa ci dice questa tabella? Ci dice che in primo luogo non c'è un paese leader oggi dal punto di vista dell'invecchiamento della popolazione, oggi c'è, ma non sarà sempre lo stesso in futuro, quindi possiamo aspettare che i paesi via via, tutti quanti sull'onda dell'invecchiamento della popolazione, si affiancheranno, si avvicineranno l'uno con l'altro a detenere i livelli record. Per quanto riguarda l'Italia invece, anche qui un aspetto interessante, per l'Italia ci dice che sicuramente siamo in una situazione, come diceva il professore prima, un po' problematica, ma comunque il processo di invecchiamento è un processo, come sappiamo, improrogabile, inarrestabile, ma non è un processo che non finirà. Prima o poi, in qualche modo, anche se deve passare in qualche decennio di anni, prima o poi è destinato a tornare, almeno a ridimensionarsi. L'Italia infatti, come vediamo, dal 2015 al 2040 scala le posizioni della cronatoria e via via fino a uscire dal ranking delle prime dieci paesi in un mondo. Poi vabbè, qui sono rappresentati tutti i paesi piccoli, grandi, quindi insomma c'è un po' un minestrone, però la cosa interessante è curiosa che, anche se il 2100 è un anno molto lontano, come averci un occhio per poterci esserci in quell'anno, la cosa curiosa è questo fatto dei paesi caraibici, il professore non so se lei sorprende, insomma, che sembrerebbero destinati ad essere tra i paesi più vecchi al mondo. Andando avanti invece con le previsioni di Eurostat, qui siamo in contesto europeo, qui Eurostat ci dice, fa vedere le previsioni dal 2015 al 2080, come cambierà la popolazione a livello europeo. Allora, l'Europa stranamente, nonostante le forti pressioni migratorie, è destinata a crescere soltanto di un 2% da qui al 2080. Per quanto riguarda i singoli paesi, abbiamo alcuni paesi dove purtroppo per loro ci si attende una forte crescita popolazione, soprattutto i paesi dell'area dell'est dell'Europa e alcuni paesi del sud Europa, come la Grecia e il Portogallo. Abbiamo invece paesi che continuano a avere una forte crescita demografica, quindi la Svezia, l'Irlanda, il Regno Unito e il Belgio soprattutto. Per quanto riguarda l'Italia noi avremo, in base a queste ipotesi, dovremmo avere un bilancio negativo dell'11%, cioè una perdita secca dell'11% di popolazione da qui al 2080 e in questa cosa abbiamo un destino che c'è comune in qualche modo alla Germania. Ora, qui abbiamo un'altra illustrazione della situazione europea, però dal punto di vista dell'invecchiamento della popolazione e qui vedremo questo, l'OIDR è Low Dage Dependency Ratio, cioè l'indice di dipendenza degli anziani e qui vediamo come l'Europa sarà destinata drasticamente a invecchiarsi. pensate che questo indice aumenta solo a livello europeo, aumenta di 23 punti percentuali dal 21% di oggi al 52% nel 2080, quindi forte crescita poi in tutti i paesi, in particolare in alcuni paesi dell'area orientale. Comunque insomma da qui al 2080 i paesi cosiddetti top-edging countries saranno il Portogallo, la Grecia, il Cipro e l'Italia secondo queste previsioni di Eurostat. Adesso ci ammogliamo a quelle nostrane previsioni fatte dall'Istat finalmente. Qui mi soffermo un po' su alcuni aspetti metodologici, non vi annoierò pesantemente con i modelli perché per ottenere questo risultato, questo lavoro che oggi viene presentato è in realtà il risultante di un lavoro che è andato avanti per circa 5 anni, grazie in un gruppo di lavoro congiunto tra Istat e Università Luigi Bocconi di Milano. Quindi il supporto metodologico di queste nostre previsioni che l'Istat oggi rilascia correntemente ha prodotto un modello multiregionale con un approccio tipo semipropabilistico che si fonda da un lato sulla cosiddetta expert opinion e dall'altro su classici modelli di estrapolazione di tendenze. Diciamo che l'expert opinion subentra soprattutto a riguardo all'andamento previsto dei principali indicatori di sintesi, quindi faccio degli esempi, l'andamento futuro del tasso di secondità, l'andamento futuro della vita media e delle migrazioni internazionali. Tutto il resto, migrazioni interne, modelli di cadenza, struttura perità, tutto sviluppato in maniera armonica e integrata utilizzando modelli di altro genere. Comunque al complesso abbiamo prodotto 3.000 scenari, quindi non 1, non 2, non 3, non N ma 3.000 e sono abbastanza tanti e a supporto anche uno scenario cosiddetto mediano che serve a corollare tutto questo lavoro. L'ultimo esercizio che abbiamo rilasciato è quello in base al 2017 che è stato rilasciato lo scorso mese di maggio e i dati sono disponibili online sui nostri siti istituzionali dell'Istat. Qui vi rassumo un attimo la nostra politica editoriale. Come diceva il professore è bene aggiornare uno dei limiti delle previsioni del passato che venivano aggiornate piuttosto raramente. Noi ci siamo passati a questo nuovo approccio a un aggiornamento praticamente annuale. Il primo anno abbiamo un modello, un'expert based model di cui vi ho poco anzi parlato. Gli anni successivi questo modello viene semplicemente aggiornato con alcune correzioni a breve termine e riproposto di volta in volta. Il ciclo ha durato 3 anni, quindi al termine del triennio si riparte con un nuovo expert based model che andremo a sviluppare dall'inizio del prossimo anno. La nostra politica di diffusione risultati è la seguente, abbiamo a che fare con probabilità, con intervalli di confidenza, per quanto il nostro approccio non è 100% probabilistico ma è semi probabilistico. Comunque noi diffondiamo intervalli di confidenza, questi sono i dettagli, 90%, 80%, 50%. Chiaramente ci interessa allertare gli utenti sul fatto che gli intervalli di confidenza sono di se stesse delle precisioni incerte e quindi questi limiti che poi noi andiamo a diffondere, a mettere sui nostri prodotti di divulgazione non devono mai essere interpretati come confini estremi degli andamenti potenziali di una popolazione. Come dicevo prima, abbiamo anche corredato, perché molti utenti poi alla fine quello che fanno è prendersi lo scenario medio, mediano o centrale, chiaramente abbiamo uno scenario mediano come riferimento che viene costruito a livello delle singole celle del modello, quindi a livello di ciascuna covariate da stesse regioni e a livello di ciascuna componente demografica. Adesso andiamo a un paio di risultati. Questa tabella rappresenta un po' la sintesi dei principali indicatori, quindi l'andamento previsto della fecondità, della speranza di vita, dell'immigrazione e delle immigrazioni per l'estero. La cosa interessante, al di là dei valori previsti che potete vedere anche davanti agli altri occhi, sicuramente ci aspettiamo, al livello di scenario mediano, un aumento sebbene leggero alla fecondità, un incremento di ricorda della speranza di vita, un andamento sostenuto anche soltanto decrescente delle immigrazioni all'estero e un aumento sostenuto delle immigrazioni. La cosa interessante qui è l'incertezza, ovvero tutti questi fenomeni non sono ugualmente probabili, ma presentano diversi livelli di incertezza. Come vedete è molto ampio l'intervallo di confidenza atteso per il tasso di fecondità, si va da 1,25 figli per donna a 1,93 nel 1965, perché vuol dire praticamente tutto e il contrario di tutto, cioè andiamo in un paese destinato alla crisi a punto di vista della linea mediaturale, invece dall'altro versante ci allineeremo almeno a livello dei paesi europei del nord, soprattutto dove la fecondità viaggia intorno a quei livelli. Però è interessante sottolineare questo aspetto, queste previsioni mettono in luce che le componenti non sono tutte ugualmente probabili. Alcuni risultati, popolazione totale, questa è la popolazione totale prevista in Italia, la linea nera rappresenta lo scenario mediano e le bande invece raffigurano l'intervallo di confidenza del 90%, l'intervallo di confidenza, ripeto, empirico. Possiamo attenderci una crescita molto leggera nei prossimi anni, quindi sostanziale stabilità della popolazione da qui a un decennio, poi cominceremo a avere più problemi nel medio termine e soprattutto una forte decrescita nel lungo termine, quindi una popolazione che nel 2065 sarà di 54 milioni circa. Ciò ho detto però, va anche detto questa cosa, anche qui incertezza molto forte, nel 2065 possiamo andare a un intervallo di 46 milioni e uno di 62. Cosa significa questo in termini pratici? Significa che le polisi in campo economico, sociale, sanitario, previdenziale eccetera, che vengono prese, che usano queste informazioni proprio per poter essere definite al meglio riguardo al futuro. Ora ragiono normalmente sullo scenario mediano, però quelle stesse polisi, quelle politiche per esempio il campo previdenziale, un campo sanitario, dovranno essere, corrono il rischio di dover essere completamente riscritte, ristrutturate, riprogettate se ci dovessimo trovare ad esempio nella parte bassa della proiezione, questo deve essere ben chiaro. Le nascite ad esempio, le nascite possiamo attenderci un trend più o meno costante per quanto riguarda l'evoluzione futura, vedete qui c'è un primo paradosso, aumenta, una delle più cosette trappole, è prevista l'aumento della fecondità ma il numero delle nascite si presenta costante o decrescente, qui perché ci sono dietro effetti strutturali legati alla struttura priorità della popolazione. Quindi la relazione chiave è che qui avremo meno madri potenziali e quindi giustamente meno figli. Marzini, io dovrebbe chiudere, magari si possono tagliare le morti che ci rattristano. Vi faccio vedere questo, questo mi sembra interessante perché spiega un po' quello che è il futuro di questo paese, lo vediamo attraverso i piramidi dell'età e qui abbiamo quattro rappresentazioni, il 17, il 2025, il 45 e il 65. Allora, nel 2017 sappiamo come stiamo, abbiamo un'età media di 45 anni e una popolazione anziana in crescita, nel 2025 vediamo che man mano la popolazione, le 7 generazioni del baby boom cominciano a spostarsi in su, cominciano a entrare nelle cosette traziane e sta tutto lì il cambiamento, c'è il problema dell'Italia, grosso modo, sta tutto in queste 20 corti, in queste 20 generazioni. Come vediamo nel 2045 che sarà l'anno più problematico dal punto di vista strutturale, queste corte stanno nel complesso dentro la fascia della popolazione anziana. Nel 2065 finalmente, forse tra cui il sottoscritto ce ne saremo liberati. La cosa importante che come vedete però anche qui, nonostante qui parliamo di piramidi, quindi di strutture della popolazione, ma guardate come aumenta l'incertezza nel tempo riguardo alle varie fasce della popolazione, cioè qui un conto è trovarsi ad esempio nel ramo dell'ipotesi più positiva, un altro discorso per tenersi e trovarsi in quella negativa. Concludo, questo possiamo saltare, questo sarà molto interessante, mi lascia un minuto professore, posso? Sì, uno. Allora, una cosa volevo dire per questo, noi come Istat stiamo lavorando, abbiamo finito questo modello che viene aggiornato ogni anno, però ci stiamo anche occupando di nuovi fenomeni in questo campo. Stiamo studiando ad esempio come fare previsioni per piccole aree, quindi a livello di sperabilmente piccoli comuni e un altro campo di interesse è quello sui tassi di attività della popolazione. C'è stato un unico nel mondo, mi sembra, che sia Statistics New Zealand che fa questa cosa e noi ispirandoci ai colleghi di Statistics New Zealand che sono sempre molto ben preparati e fanno cose veramente di qualità, stiamo un seguendo il loro approccio. Quindi quello che vedete, il primo grafico a sinistra è la cosiddetta età media attiva, la vita media attiva, cosa significa? Il numero di anni che una persona può aspettarsi di essere in condizione economicamente attiva. Che cosa è questa cosa qui? Questa è soltanto, è come il tasso di unità totale, è la somma dei tassi specifici di attività, quindi in qualche modo ha lo stesso concetto, le stesse misure. Questo ci permette di sviluppare modelli molto simili a quelli che si usano nel campo della fecondità e nel grafico centrale, ad esempio, vedete la distribuzione della popolazione di attiva nelle classi da 15-74 anni, vedete come questa popolazione si è destinata a diminuire. Infine al destra vedete il tasso di indipendenza, l'indipendenza di questa popolazione di attiva che l'andamento ricalca un po' quello della popolazione generale, ovvero il fatto che intorno a 2040 e 2045 sarà un problema, un momento di massima crisi. Detto questo, vi salto le conclusioni, le conclusioni sono che vi invito veramente, invitiamo tutti, è buona norma, buona prassi quando ci si approccia a questo universo per esempio demografico, documentarsi dal punto di vista delle ipotesi, come vengono fatte, da chi vengono condotte e quali sono gli scopi per cui queste previsioni vengono realizzate, quindi sia che si riguardi a Aerostat, che si riguardi a Istat o che si riguardi le Nazioni Unite, è ben importante avere bene in mente la cornice dei metadati e il supporto di tutte queste interessanti elaborazioni. Grazie, scusate per... Grazie al dottor Marsili per questa carrellata incisiva, quindi lo scusiamo per i minuti in più che si è preso legittimamente peraltro. Ci sono delle domande, abbiamo qualche minuto per domande e considerazioni che siano estremamente sintetiche, domande a Marsili, non sopra l'immortalità dell'anima, diciamo. Non si è applicato a questo ancora. Prego. Un attimo. Sono Francesco Napoli del Ministero dell'Istruzione. Ho tirato giù tutti i dati dal 2018 al 2030, mi sono limitato al 2030 per età e mi sono divertito a vedere la fascia dei minorenni, diciamo, che è quella che è più vicino al mio lavoro. E quindi ho fatto le proiezioni, ho visto che nel Molise succede qualcosa che non mi aspettavo, cioè che le donne vanno giù. Ho fatto anche un quesito, mi sembra, ho mandato un quesito, mi è stato detto, vabbè, lo scenario mediano può succedere. Visto che ce l'ho qui, volevo chiedere se ve ne siete accorti. Allora, se ne siamo accorti, è un caso molto limite, l'abbiamo anche affrontato e esaminato con una dovuta attenzione. È un fatto un po' particolare perché il Molise, diciamo, è soggetto a una, in questi ultimi anni, e si prete, continua ad essere così, è soggetto a una forte immigrazione di sesso maschile. Per quanto poi siano previsti i congiungimenti, eccetera, 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 questo porta a questo possibile, non, diciamo, certo squilibrio a livello di rapporto dei sessi. Bene, altre domande? Possibile che non abbiate domande? A Merzini, ecco. Lei, prego. Grazie, allora, io sono Paolo Liberatore, GSE, gestore di servizi energetici. Mi occupo di energia, di scenari energetici, di domanda futura di energia, perché ovviamente tutte le previsioni della popolazione sono utili anche per chi fa programmazione, per chi pianifica la domanda di qualunque cosa. La domanda è questa, nel futuro sarà possibile, secondo lei, oltre a fare previsioni della popolazione, fare previsioni del numero delle famiglie, perché in alcuni casi la previsione della domanda, per esempio di utenza, è associata all'abitazione, quindi alla famiglia e non al numero di persone. La risposta è facile, dato subito. La risposta è sì. Va bene. Ci stiamo lavorando. Stiamo lavorando. Ecco, sapevo io. Stanno lavorando per la... No, il problema, sì, è un sì, il problema, diciamo, che le trasformazioni familiari in atto sono notevoli, soprattutto negli ultimi anni, quindi non è facile, diciamo, mettere in piedi un modello... Queste famiglie non stanno ferme, diciamo. Purtroppo non stanno ferme. Dinamiche. Quindi sicuramente ci stiamo pensando di avere un modello, però, diciamo, di breve o medio termine, non con lunga prospettiva. Nessuno, siete tutti soddisfatti, anche delle opinioni degli esperti, perché l'expert opinion sa un po' di, così, di insuccheramento delle ipotesi, diciamo, che forse sarebbero più utilmente e facilmente con meno dispendio di energie fatte dagli stessi estensori. però, insomma, gli esperti bisogna sentirli, ovviamente, però, ecco, qual è stata l'esperienza? Allora, l'esperienza sugli esperti... Da 1 a 10? Da 1 a 10 è stata, alla fine, gli esperti che abbiamo scremato, perché noi all'inizio, scusate, ma... Hanno pure scremati gli esperti? No, no, veramente, no, perché no, è molto difficile, nel senso che noi abbiamo interpellati 35, credo, qui c'è Gianni, 35, e poi li abbiamo ridotti a 24, perché alcuni, diciamo, alcuni si sono proprio rifiutati di rispondere, nel senso, dicendo, hanno detto, no, non è il nostro compito istituzionale farlo, lo devi fare l'Istat e non ci rompete l'anima con queste cose. Altri hanno risposto, ma hanno risposto parzialmente, cioè soltanto al campo del loro interesse, chi gli ha risposto sulla sua mortalità, solo sulle migrazioni e quindi... O altri, invece, diciamo, devo dirlo, purtroppo, professore, alcuni non hanno ben interpretato il senso del questionario. Comunque, alla fine, l'esperienza, secondo me, è positiva. è positiva, tant'è che la riproporremo, anche perché il modello funziona bene con questa expert opinion, ci abbiamo messo molto, ripeto, per metterlo in piedi, ci abbiamo lavorato diversi anni, però alla fine abbiamo raggiunto un buon compromesso, al mio modo. E poi, avere una base di consenso, diciamo, fa comodo, anche, no? Prego, rapidissimo, che poi passiamo all'altra relazione. Oltre alle proiezioni, non sarebbe interessante, oltre alle proiezioni, usare i modelli anche per fare, per indicare le pollici, quindi ho visto una slide in cui diceva, a seconda delle politiche al sostegno della famiglia si può andare su o sopra, quindi un risultato sarebbe anche usare il modello, più che la proiezione, per fare una sensitivity analysis e per cercare di capire come orientare o quanto ci si può aspettare da particolari politiche. Quindi di inserire l'opzione zero migrazione in vista dell'attività di questo governo, per esempio, invece che i centomila o centocinquantamila annuali previsti. Senz'altro, il nostro obiettivo è proprio quello, definire uno scenario probabile, quello ritiriamo più probabile, ma anche insistere, noi insistiamo molto su questo, sull'incertezza, e ripeto, a seconda è dovuto finire i sultati delle pollici devono essere immediatamente diciamo, ricalibrati. Quindi adesso non so sicuramente per capire la domanda, però le chiede di inserire nel modello demografico un modello che immediatamente sviluppi, ma questo già esiste a livello europeo, c'è il modello del Working Group on Edging European Policy Committee che ha proprio questo scopo, c'è parte delle revisioni demografiche di Eurostat e sviluppa tutta una serie di previsioni derivate, a partire dalle previsioni sull'andamento dell'economia, quindi previsioni dell'andamento del PIL, c'è un pacchetto che riguarda la spesa previdenziale, un pacchetto di spesa assistenziale e sanitaria, e questo già funziona viene a dire purtroppo all'idea europea, perché poi ha delle conseguenze, nel senso che alla luce di questi risultati poi a livello di Consiglio di Ministri Economici, di ECOFIN, vengono assunte delle decisioni che possono condizionare pesantemente la politica di oggi, cioè guardano a quello che potrebbe accadere tra 50 anni, ma ci condizionano già da oggi, e questo lo vediamo attraverso un taser di misure che sia l'Europa, ma sia i governi nazionali in qualche modo impongono ai loro paesi. Bene, grazie a Marzili, mi scuso per averlo tiranneggiato con i tempi, ma questa è la mia professione in questo momento. Allora io chiedo adesso a Federico Barbellini, a Medei, di raccontarci qual è stato l'apporto della demografia alla crescita economica negli ultimi 200 anni, c'è già un quaderno della Banca d'Italia, mi sembra uscito nel marzo scorso, che io mi sono religiosamente eletto, il paper è di Barbellini a Medei in collaborazione con Gomellini e Piselli, e vediamo come si è evoluta il fatto. Insomma la conclusione è che in realtà il cambio demografico ha avuto rendimenti crescenti fino a qualche decennio fa e che da ora, da qualche decennio fa e adesso e probabilmente, anzi sicuramente nel futuro, forse i rendimenti saranno decrescenti. Il vento non sarà in poppa ma sarà diciamo contro la prua o sbaglio? Esattamente, sì buongiorno a tutti, sono 200 anni appunto in senso fidurgurato perché noi siamo andati a guardare quello che è successo appunto nel profilo demografico italiano dal 1861 a beneficiando appunto delle previsioni che però già sono cambiate perché ho visto noi abbiamo uscite le nuove come ci diceva il dottor Marsili nel maggio 2018, noi invece abbiamo beneficiato della precedente release e quindi siamo andati a guardare fino al 2061 e abbiamo anche guardato in prospettiva internazionale sia nel passato dal 1900 e sia nel futuro più o meno negli stessi 50 anni futuri che sono coperti dalle previsioni dell'Istat e quindi effettivamente anche rispetto a quello che diceva il dottor Marsili due minuti fa, devo dire che la nostra idea è più di un cambiamento strutturale assai significativo, c'è una transizione ma quello che dicono le previsioni appunto le UN Prospects 2017 sono del passaggio da una aging to an aged society non solo peraltro per i paesi più avanzati ma anche come si è più di un cambiamento strutturale assai significativo nella graduatoria mostrata nel slide della presentazione precedente anche per diversi paesi di nuova industrializzazione o anche in cosiddetto nuovo sviluppo. Allora cosa succede? Noi abbiamo cercato di vedere l'impatto poi sulla crescita economica di questi cambiamenti con tutti i limiti, uno ovviamente di scenari che sono probabilistici e due anche dei limiti del nostro utilizzo di queste evidenze, noi non siamo dei demografi, abbiamo cercato di studiare e di applicare quello che abbiamo imparato. Sostanzialmente questi processi di invecchiamento della popolazione di caro della nascita produrranno direttamente un impatto sulla dimensione della popolazione in età da lavoro e quindi probabilmente sulla forza da lavoro un impatto sia nella dimensione relativa sia nella dimensione assoluta di questa popolazione in età da lavoro. Diciamo che in due parole il dibattito fino ad anni recenti della demografia nell'ambito del campo più strettamente degli economisti, in particolare la teoria della crescita, guardava alle dinamiche nella dimensione della popolazione e più recentemente si guarda con più attenzione alle dinamiche nelle modifiche della struttura della popolazione perché sappiamo che i comportamenti, ancora prima le attitudini e le preferenze si modificano significativamente in relazione all'età e all'aspettativa di vita e quindi innanzitutto noi in questo lavoro ci siamo concentrati sulla partecipazione alla forza da lavoro e quindi come cambia con le modifiche nella struttura della priorità della popolazione la partecipazione alla forza da lavoro. Abbiamo già anche avviato delle ricerche e lo stiamo facendo in questi mesi anche sugli altri profili di assoluto rilievo che coinvolgeranno questi sviluppi demografici, in particolare gli impatti sulla produttività, sull'innovazione, sull'imprenditorialità e sulle scelte di consumo e di risparmio delle popolazioni. Andiamo velocemente per dire che sostanzialmente quello che è successo oltre a quello che ci ha fatto vedere Marsili e quello che succederà ma anche vediamo in prospettiva storica, l'Italia è partita nel 1861 con 26 milioni di abitanti e quindi abbiamo dietro una storia di sviluppo demografico e anche di crescita economica assai importante e quindi anche i traguardi con cui ci confrontiamo in futuro chiaramente vogliamo anche paragonarli ai nostri profili di crescita del benessere che si sono anche associati alla crescita economica. Qui vediamo la linea rossa sostanzialmente i decessi, la linea blu le nascite nel passato e con la linea tratteggiata nel futuro si apre, si è già aperta e si aprirà secondo tutti i riferimenti dove non differentemente specificato sono Istat, quindi noi non abbiamo fatto altro tra virgolette che cercare di riorganizzare i dati di fonte ufficiale, si apre una forbice quindi i progressi in aspettativa di vita sono stati impressionanti, ovviamente orientati per lo più per una fase lunga dai problemi ovviamente della mortalità infantile, ma anche solo nel 1961 avevamo 65 anni di vita media attesa alla nascita e l'Istat stima che saranno nel 2065 oltre 90 anni per le donne e 86 anni per gli uomini e in questo profilo di tempo che poi non è così ampio ci sarà un progresso di ben 5 anni di vita media attesa da oggi al 2065. Vediamo anche in comparazione internazionale, abbiamo visto il Giappone, la Germania, la Francia, la Spagna, il Regno Unito, il Canada e gli USA e la loro storia demografica, questo grafico esprime appunto il declino della natalità, come sappiamo nel corso della transizione demografica che tutti questi paesi in forme diverse hanno sperimentato nel corso del XX secolo e la linea verde tratteggiata è il caso dell'Italia, noi siamo sicuramente sul profilo basso almeno dagli anni 90 con un calo della natalità importante che non sembra, appunto le dati ISSA ci dicono una stabilizzazione, ma insomma siamo sul confine inferiore di questo area che traccia il minimo e il massimo per i paesi considerati. C'è qualcosa di significativo che è successo in particolare in modo molto acuto in Giappone, ma anche in Germania e in Italia che poi ci conduce appunto, questa è la variabile di interesse in questo nostro studio, a una contrazione della quota di popolazione in età lavorativa. Si prevede che nel 2061 saremo al 55% della popolazione in età lavorativa, se togliessimo la popolazione immigrata arriveremo o scenderemo lievemente sotto il 50%. Questo è un cambiamento importante, gli indici di aging e di dipendenza strutturale hanno avuto un cambiamento e avranno un cambiamento assai marcato nel futuro, se guardiamo appunto la linea rossa, l'indice di dipendenza strutturale, quindi i meno di 15 anni, i più di 64 su la working age population, la popolazione in età lavoro, dopo un centenario calo e quindi un maggiore peso relativo della popolazione in età lavoro, dal ventunesimo secolo, con l'ingresso del ventunesimo secolo questo rapporto si è invertito e nel 2041 supereremo il massimo storico che avevamo registrato all'inizio del ventesimo secolo con la differenza cruciale che allora esprimeva questo indice una crescita della componente più giovane della popolazione italiana e adesso in modo del tutto opposto, adesso nel futuro lo sarà di più per quella più anziana. Qui di nuovo lo vediamo questi sviluppi a livello internazionale, ma voglio andare più velocemente a vedere le prime forme di misurazione dell'impatto economico. La misura più semplice, sintetica con cui si misura l'impatto economico usualmente degli sviluppi demografici è quella della differenza della dinamica tra la popolazione in età lavoro e la popolazione complessivamente intesa e quindi questa è una misura immediata, se il valore è positivo significa che la forza lavoro dovrebbe crescere più velocemente della popolazione dando un contributo positivo alle dinamiche del PIL. E quindi cosa vediamo? Che nei passati 150 anni questo dividendo demografico in Italia è stato ovviamente con dimensioni diverse e anche segno in alcuni decenni diversi, ma per lo più positivo. Adesso inanelliamo tre decenni con lo stesso segno negativo e con una dimensione non irrilevante. Se poi andiamo a misurare in modo un po' più completo la scomposizione, operare una scomposizione del PIL pro capite e quindi teniamo conto anche della dinamica della produttività, del tasso di occupazione oltre che alla componente dividendo demografico che è quella gialla più piccola e invece quella grigia è il tasso di occupazione e l'arancione è la produttività, scopriamo come sappiamo che la cosa più importante a lungo termine è la dinamica della produttività, però anche la componente demografica ha dato in alcune fasi in particolare un contributo positivo anche significativo, in particolare nel corso degli anni Ottanta, questo direi come specchio del baby boom relativamente concentrato italiano negli anni Sessanta, alla metà degli anni Sessanta e detto questo dagli anni Novanta appunto il dividendo demografico sottrae crescita e sottrae crescita a un profilo di produttività che si è fatto via via più deludente fino a essere negativo perché appunto con l'ingresso nel XXI secolo la dinamica della produttività italiana si è azzerata e poi diventata negativa nell'ultimo decennio. Se vediamo nella comparazione internazionale vediamo che sostanzialmente è il pannello E, il contributo dell'evoluzione della struttura per l'età della popolazione italiana non è stato più sfavorevole nel lungo termine di quello degli altri principali paesi, è stato per lo più positivo ed è appunto diventato per noi come per gli altri e se poi andiamo a vedere non solo la media dei paesi come qui è espressa anche i singoli casi e ovviamente non tutti i paesi hanno lo stesso rilievo anche come abbiamo visto poi dai grafici anche dell'evoluzione più crudamente demografica anche in modo più negativo degli altri paesi. Le nostre dinamiche nel lungo periodo sono state relativamente più positive dal punto di vista del working age population che della dimensione complessiva della popolazione anche perché come tendiamo a dimenticarci il nostro è stato un paese in particolare nel corso del XX secolo di grande emigrazione e quindi una parte della popolazione in età da lavoro per tanti decenni l'abbiamo esportata e quindi qui abbiamo fatto anche un focus su il periodo più recente a cravallo tra XX e XXI secolo e proprio emerge il contributo positivo della popolazione immigrata in particolare nel primo decennio del XX secolo e se fossimo stati solo italiani nativi come dinamica demografica il contributo sarebbe stato più pesantemente negativo oltre un negativo meno 4% rispetto al realizzato meno 3% proprio grazie alle dinamiche migratorie in ingresso perché non ci dimentichiamo gli immigrati internazionalmente allora come oggi hanno una speciale caratteristica che sono sovra rappresentati nella classe di età da lavoro e quindi al netto dei ricongiungimenti poi anche con tutto l'apporto anche positivo dal punto di vista della fertilità ma insomma le persone vengono per lo più come è stato per gli italiani per tanti decenni appunto per lavorare. Qui abbiamo visto poi in avanti quindi andiamo a vedere quello che succederà dal punto di vista innanzitutto della demographic dividend da qui al 2061 e quindi vediamo che questi ultimi tre decenni sfortunati non sono sfortunati perché andranno a replicarsi in dimensioni diverse ma con lo stesso segno negativo fino a il 2050 questo sempre sulla base delle precisioni istat 2017 e forse sono già un po cambiate quelle di quest'anno ma sostanzialmente già si vede qui nel 51 61 un'inversione del segno e quindi un ritorno a un lieve dividendo demografico positivo anche perché appunto in parte sarà compiuta questa transizione da una aging a un age society è anche vero come abbiamo visto che però saremo 7 milioni in meno almeno nella previsione mediana e alcune variabili tipicamente quella del debito pubblico si scalano non in termini solo basicamente come la crescita del reddito pro capite ma dobbiamo vedere anche la crescita del reddito to cure del PIL la dimensione del PIL perché poi le andiamo a scalare su una dimensione economica che è e quindi è importante anche quanto produrremo sicuro perché se sapremo incidere positivamente sulle dinamiche della produttività gli scenari possono essere interpretati in una luce molto diversa ma anche la dimensione dell'economia è anche la sua popolazione una delle variabili chiavi nella dimensione dell'economia conta per il nostro benessere e anche nel confronto internazionale perché è interessante ci sono passato molto velocemente come anche paesi che esibiscono esibiranno una crescita positiva della popolazione come la Francia l'Inghilterra e gli Stati Uniti anche questi paesi soffriranno in termini di dividendo demografico però certo in dimensione diversa dell'Italia e il Giappone e la Germania che sono i paesi. Andiamo avanti velocemente per dire appunto ma in parte l'ho già detto che questo profilo prospettico accomuna l'Italia agli altri principali paesi e anche a quelli che avranno una crescita positiva della popolazione l'unico paese che è un po' alato ma questo ha legislazioni invariate sono gli Stati Uniti quindi vedremo se la chiusura voglio dire all'immigrazione dichiarata si realizzerà come già è stato in passato sappiamo importantissimo nel 1921 il cambiamento regolatorio americano che cambiò drasticamente strutturalmente per decenni la politica di accoglienza negli Stati Uniti e quindi cambiò anche le dinamiche demografiche in parte però allo stato attuale gli Stati Uniti forse sono uno forse l'unico paese che soffrirebbe meno di questi profili demografici attesi ecco qui cosa abbiamo fatto e chiuderò su questo e le due slide successive sostanzialmente abbiamo provato a dare anche sulla base delle previsioni dell'Istat prendendo i tassi di occupazione degli ultimi tre anni e applicando per struttura per età per classi di età per cittadinanza abbiamo proiettato in futuro quello che potrebbe succedere sulla base di questa evoluzione della popolazione la struttura per età della popolazione in termini di crescita sostanzialmente quello che vediamo è che a livello della produttività dato fissato all'oggi sostanzialmente avremo nel 2061 da qui al 61 una perdita cumulata di un quarto di pil che non è poco meno 24,4% in termini pro capite un meno 16% cerchiamo di capire cosa significa anche nella prospettiva storica questi numeri noi se potessimo questa la produttività necessaria la crescita della produttività necessaria da qui al 2061 su base annua per azzerare questa perdita di benessere economico dovrebbe essere dello 0,34% anno teniamo conto questo sembra un numero piccolo ma teniamo conto che negli ultimi dieci anni la crescita della nostra produttività non la crescita del reddito la crescita della produttività è stata 0 e quindi rispetto a 0 comunque 0,34% è già un obiettivo non sfidante ma comunque un obiettivo dopodiché se noi facessimo la realizzassimo da qui al 2061 la media storica tra il 1861 e il 2016 della nostra dinamica della produttività che è stata in questi 155 anni dell'1,5% anno noi riusciremo a più che compensare queste dinamiche demografiche avverse e realizzare un aumento del PIL del 50% e del PIL pro capite del 65%. Attenzione sembra un buon traguardo ma non lo sarebbe perché in media nei tre cinquantenni passati noi siamo cresciuti del 140% il nostro reddito pro capite è cresciuto ogni 50 anni del 140% quindi per mantenere le dinamiche di crescita del benessere che abbiamo sperimentato nei passati 150 anni ci dobbiamo dare degli obiettivi ancora più. Un minuto per chiudere? Un minuto per dire che la notizia positiva è che alcuni sviluppi legati alle dinamiche comportamentali legati alle modifiche istituzionali che sono possibili e collegati a questi stessi sviluppi demografici avversi e ne abbiamo analizzati tre l'ampliamento della partecipazione femminile al mercato del lavoro, l'estensione della vita lavorativa e l'aumento del grado di istruzione della popolazione potrebbero questi tre sviluppi indurre un aumento della partecipazione al lavoro degli italiani. Sostanzialmente noi qui vediamo in questa tavola che noi abbiamo un divario negativo in termini di tasso di occupazione femminile, in termini di età effettiva di pensionamento, in termini di quota di laureati sulla popolazione rispetto agli altri principali paesi nostri competitor economici e alleati e anche fratelli europei che in realtà indica anche uno spazio di opportunità. Se noi realizzassimo quello che avevamo detto in particolare con l'agenda di Lisbona, cioè di raggiungere un differenziale di tasso di occupazione tra uomini e donne di 10 punti percentuali anziché quello che oggi ancora registriamo di 18 punti percentuali, già questo ci permetterebbe di quasi annullare questa perdita di reddito pro capite risultato delle dinamiche demografiche. Ovviamente questo chiede politiche, chiede cambiamenti istituzionali ma si può fare. Se guardiamo e infine… Allora, qualche rapidissima domanda per cortesia, rapidissima, perché siamo in ritardo, anche se io penso che gli organizzatori ci verranno permesso di arrivare fino a luna, visto che ci avete fatto cominciare più tardi, è così? Allora, buongiorno, Federica Pintal di Istat, domanda, legame fra età media che si alza sulla forza lavoro, produttività e innovazione? Il legame è grande e passa attraverso, da quello che finora abbiamo studiato, passa anche un ri-ingiovanimento della popolazione, perché sotto il profilo della produttività in termini più, diciamo così, tra virgolette statici, in termini di guadagni di efficienza, sappiamo che i profili per efficienza, i profili della popolazione, dell'efficienza della popolazione per classi di età, vedono le classi centrali, i livelli di efficienza più elevati, sappiamo che in termini di innovazione e abbiamo anche fatto, è in corso ancora un recente studio che guarda nel lungo periodo la relazione tra, a livello territoriale italiano dall'Ottocento a oggi, la relazione tra struttura per età e la popolazione, i livelli di produttività e di innovazione, è lì che si deve trarre più frutto, si trae più frutto e infine anche dal punto di vista dell'imprenditorialità che è un'altra dimensione del cambiamento e dell'innovazione è più difficile cambiare una società più abituata semplicemente a uno stato di cose. Ecco sì, il profilo della produttività è una scodella rovesciata per età e quindi più invecchia la popolazione e parità di condizioni la produttività cresce. I premi Nobel vengono dati a scienziati che hanno fatto le loro scoperte tra i 30 e i 40 anni, non tra i 70 e gli 80, gli vengono dati a 80 anni, però la scoperta l'hanno fatta 40 anni prima, quindi questo per il fronte innovazione. Allora, un'ultima rapidissima domanda c'è, se no passiamo… Sì c'è, ci avete dato poco tempo, vedete organizzatori… D'Ogallo Istat, volevo chiedere se la distribuzione del reddito e quindi l'ipotesi di ridurre la povertà può essere un incentivo per aumentare la produttività anche nel lungo periodo oppure no? Grazie. Domanda troppo difficile, la mia tesi di laurea 30 anni fa, 25 anni fa, era su questo, quindi teoria della crescita e distribuzione del reddito, ci sono mille canali, tendiamo a pensare oggi più di ieri che sì, che c'è una via, anche questo, sono spazi di opportunità se uno cerca di vederli nella disuguaglianza per ridurla e per dare un contributo alla crescita. Tutto quello che può dire, bene, grazie, grazie mille, io chiederei adesso a Sergio Sorgi, vicepresidente di Progetica, che a quanto so è un'attività di educazione finanziaria che nel nostro paese è particolarmente carente, quindi c'è un grande spazio di mercato, di parlarci di una cosa piacevole, cioè su come migliorare attraverso la demografia il domani, quindi rendendoci immortali, giovani, belli, forti e duraturi. È così? Forse no. Alla parola. Soliti 18 minuti che io la tiranneggerò come ho tiranneggiato gli altri. Grazie. Grazie anche per l'invito, è bellissimo essere qui, non solo interessante ma bello. Allora, a parte che ormai c'è una curiosità pazzesca, cioè che non posso soddisfare. Dimenticavo che c'è un co-opore lei che è Alessandro Rosina, e do anche un consiglio ai relatori di tagliare sulle premesse perché poi si trovano a non poter parlare delle conclusioni che in genere sono le più quelle che il pubblico vuole sapere, conoscere. Io ho otto schemi e mezzo quindi dovrei essere disciplinato. Vado avanti, vado avanti. Forse mi interessa per sapere se ci sono donne morisane ma non è importante in questa sede. Io porto un intervento comune, quando si portano interventi comuni, l'intervento è mio di Alessandro Rosina, una premessa micro va fatta, cioè che le cose belle tendenzialmente sono le sue e se c'è qualcosa che non vi piace invece è mia, così sono salvo con Alessandro e posso procedere. Ho otto schemi e mezzo, i primi cinque minuti mettono un po' di ansia e me ne scuso, spero che gli altri quattordici, che sono dodici, la tolga. Il senso di questi otto schemi e mezzo è questo. Tutti vogliamo star bene, alcuni di noi vogliono anche essere felici e tutti vivremo il resto della vita in un posto che si chiama futuro. Ma la direzione verso la quale il futuro si incanala, ci piace o non ci piace? E la risposta in ogni collettività di solito è dipende. E io ricordo una bella immagine del professor Garimberti che diceva che un bosco è un bosco ma si va in un bosco con un falegname e un poeta. Queste due persone nel bosco vedono due cose diverse e questo è esattamente il piccolo racconto che comincia adesso. Noi come lo vediamo questo futuro? Da taglialegna o da poeti? Posto che esistano taglialegna pessimisti e poeti ottimisti ma anche viceversa, quindi è naturalmente una semplificazione quella che pongo. Però la prima visione che credo sia abbastanza diffusa in questi anni è proprio quella del futuro visto dal punto di vista di taglialegna e questo significa un po' delle cose che ci stiamo dicendo. Bassa natalità, migrazione nostanziale, degiovanimento, piramide rovesciata, shock democratico perché se avremo un paese con il 51% di vecchi noi eleggeremo rappresentanti vecchi ai quali chiederemo di non toccarci le pensioni e la sanità e quindi lo dico con scoramento di cercare il più possibile di evitare di ragionare sui giovani presenti in sala e sulla sostenibilità. E poi naturalmente questo quadro fosco è aggravato da alcune cose. La cosa che più ci toglie il sonno ultimamente è la 4.0 cioè l'idea che poi arrivino, ahimè, gli automi che ci tolgono i posti di lavoro. E se arrivano gli automi che secondo i pessimisti ci porteranno via dagli 800 milioni al miliardo di posti di lavoro necessariamente dovremmo porci il tema di come sostenere il reddito di chi non lavora. Qui il dibattito è un po', se posso, semplificato perché si parla di reddito di cittadinanza. In realtà ci sono molte forme di sperimentazione e ragionamento su che cosa si può fare per chi non ha reddito. Fra l'altro ho scritto di recente che il tema della mancanza di reddito di lavoro in un welfare contributivo significa anche un problema pensionistico. Ma diciamo che qui ve la faccio molto breve per dire che in tutti i luoghi si fanno sperimentazioni. La Finlandia ha fatto sperimentazioni, ma anche le imprese fanno dei test prima di lanciare dei programmi. Su questo un giorno bisognerebbe discutere. Però l'esito di questa faccenda è evidente per il tagliaregne ed è che il welfare non ce la fa. Mi spiace. Non ce la fa perché? Non ce la fa perché è un welfare redistributivo, è un welfare nel quale le donne lavorano poco e abbiamo il tasso più basso di rapporto fra impiego femminile e natalità. I ragazzi sono, ahimè, incollati nelle case. Autonomia economica totale 35 anni per i maschi, 32 per le femmine. Mi spiace moltissimo per i genitori in sala, ma è un tema che condividiamo. Siamo, secondo queste ipotesi, che ipotesi non sono, proiettati verso una forma di piramide che è quella destra, ha un brutto nome e non ve lo racconto perché lo sapete, ma diciamo che la situazione sotto il profilo demografico non è semplice per la lentezza dei movimenti demografici. Qua non è finanza, si fa una legge finanziaria ruvida e si sistema le cose. Qui le popolazioni sono lenti. E allora come reagiscono le persone, le famiglie? Noi come reagiamo a questo stato di cose? Diciamo che reagiamo non troppo bene, perché ci sentiamo inadeguati, perché le ansie sono già tante e non abbiamo neanche tanta voglia di confrontarci con un'ansia in più. Continuiamo a sentirci dire la popolazione in vecchio, i ragazzi non ce la fanno, l'Inps, Gnafa, non è neanche più sinceramente tanto divertente in termini comunicativi. In più non abbiamo tempo perché siamo digifrenici, figli dell'interruzione continua, stiamo facendo una roba, se arriva una mail interrompiamo quello che stiamo facendo e cominciamo a vedere chi ci scrive. se mentre guardiamo la mail arriva un whatsapp, interrompiamo la mail e andiamo a vedere un whatsapp, e questo insomma ci porta così a avere un atteggiamento verso il tempo abbastanza particolare, perché il presente ci mangia tutto e, essendo così un po' poco visibile il futuro, tendiamo anche a rimandarlo. In più c'è il solito tema, che il problema di tutti non è problema mio, e quindi perché devo occuparmi di un tema che tutto sommato è meravigliosamente collettivo. esito, la migliore decisione è quella di non decidere, e quindi mi sembra che siamo in un posto nel quale a livello politico, aziendale, familiare, si cerca il più possibile di non decidere. E poi un antidoto al futuro è quello di sviluppare la mirabile retrotopia, quanto si stava bene una volta. Non voglio discutere perché non ho tempo, e sono molto disciplinato sul tempo, attenzione alla retrotopia. Io penso alle famiglie, ogni tanto noi abbiamo questa idea meravigliosa delle famiglie al passato. Boh, io stavo in una famiglia veramente positiva, ma non cominciavo a mangiare finché mio padre non aveva cominciato a mangiare, e smettevo di mangiare quando lui finiva. e fino a 50 anni fa il destino lavorativo di studio dei figli non aveva grande autonomia, e non parlo dei rapporti di genere per garbo. E quindi, insomma, però ce la caviamo così. Se il futuro non si vede, il presente ci mangia tutto. Rifugiamoci nel passato. Va bene. In tutto questo mi fido solamente di quelli come me, quindi sfiducia verticale. Non mi fido dei governi, non mi fido delle banche, non mi fido degli esperti, non mi fido di nessuno, se no di quelli come me. E poi, parola meravigliosa sentita per la prima volta stamattina dal professor Alleva, sono pure infobeso. No, è vero, siamo infobesi. Infobesi, l'infobesità. Che è una meraviglia perché pensiamo di conoscere tutto, ma non sappiamo niente. Pensiamo di sapere qualcosa, ma non vuol dire saper fare. Però c'è questa satiazione semantica. Alla fine Google non finisce mai. E quindi, va bene. Domande. Ma le cose stanno necessariamente così. E che cosa rende questo possibile, probabile o improbabile? E se l'attesa è così diverso dai nostri desideri, è possibile mai che non ci sia un moto individuale o collettivo che ci consenta un po' di uscire da questa visione e di andare altrove? Ha ragione il professor Livi Bacci. Cioè i morti rattristano, ma anche questi qua di qua rattristano. E soprattutto non si può provare veramente a sviluppare una visione un po' più poetica, ma operativa del futuro. E allora forse questa cosa si può vedere in modo diverso. E allora il futuro può essere impertinente e attrattivo. E la neurofia non una Cassandra, ma un motore di pianificazione. E noi possiamo veramente pensare che la popolazione è dinamica nello spazio e nel tempo. Possiamo davvero immaginare che le politiche debbano orientarsi ai giovani. Perché? Perché la posterità è il più gran numero di persone che vivrà a questo paese. E che possiamo anche modificare, lo vediamo fra un attimo, la forma della piramide italiana. E che forse, se c'è una cosa che veramente ci unisce, è che tutti sappiamo che senza ricostruire relazioni sociali e senza un orientamento al futuro da questa cosa qua non si esce. Ma lo sappiamo. Tutte le persone che io vedo, e ne vedo tante, hanno una voglia estrema di uscire dal presentismo. E allora forse possiamo pensare a uno sviluppo che sia anche qualitativo. E possiamo pensare che i robot non necessariamente distruggeranno 800 milioni di posti di lavoro, ma potrebbero ad esempio toglierci i compiti più gravosi e consentirci di salire di livello nel nostro lavoro. Farci recuperare dei tempi di vita che non sono solo produttivi. L'uomo è anche azione non produttiva. L'uomo è anche contemplazione. Ricordo l'ultimo libretto scritto da Ingrao sulla contemplazione. che ci siamo dimenticati. E allora forse i nuovi welfare potrebbero andare in direzioni diverse, anche dal punto di vista del rapporto fra demografia e democrazia. Nell'ultimo libro che abbiamo scritto con Alessandro abbiamo riproposto la tesi evidentemente suggestiva del voto ponderato per età. Ma perché lo facciamo? Perché è un elemento di riflessione. Come un popolo di vecchi possa privarsi di qualcosa per donarlo a qualcuno che non c'è. E tutto questo per dire che il futuro veramente può esserci. E noi possiamo ragionare su un welfare che non è un costo ma un investimento. Strano che i paesi più felici del mondo sono quelli che hanno più welfare e che ci dimostrano quanto ogni punto di pila investito in sviluppo ritorna. Penso agli amici danesi. E allora forse si può creare qualcosa che riequilibri il gap at birth, che dia a tutti la possibilità di avere pari opportunità. Quelle che alla nascita forse non ci sono. E possiamo cominciare ad accogliere altri popoli e orientarci alle nuove energie. Che cosa vuol dire questo? Creare reti di welfare di comunità. Il welfare di comunità non è il welfare societario. Ci si mette in società per trovarne benefici. Ci si mette in comunità per dare benefici all'utente. È diversissimo. E poi, e questa mi piace più di tutte, ma perché l'Italia del futuro deve essere a cassa da morto e non può essere a clessidra, a caffettire? Perché non dobbiamo da subito attivarci perché questo paese sia pieno di quei ragazzini che a 30 anni vincono al Nobel. L'iPhone 21 non lo inventeranno due novantenni a Varese, lo sappiamo tutti. Ma 15-18 anni in un garage di Mumbai. E allora arrivo alle due conclusioni. Due e mezzo. Prima conclusione. Chi fa il futuro, il miglioramento dell'esistente, ma anche il nuovo. Il nuovo sono due. I ragazzi che hanno un'estrema voglia di lavorare e i nuovi popoli. Mi si è conficcata nel cervello un'immagine di Carlo Sini, che è un filosofo che molti di voi conoscono. Sini ci parlava di recente a Milano. Diceva, ma quella rete in biologia marocchino che pulisce i vetri in piazza Baiamonti a Milano. Ma questa situazione è avvilente per lui o per noi? Ecco che cosa vuol dire cominciare a pensare non allo straniero meccanico economico, ma che cosa vuol dire per una società portare a bordo le persone che non ci sono. E tutto questo che significa? Significa che il poeta ci dice, e come comprenderete noi saremmo ottimisti non ingenui, che il futuro è inaugurazione, ogé, che noi dobbiamo imparare non a volere, ma a desiderare. La differenza tra desiderio e voglia credo che vi sia nitida. Tutti noi da bambini impazzivamo per il Natale perché non vedevamo l'ova che arrivasse. Adesso compri qualcosa e dopo un secondo ti hai già annoiato, e vuoi qualcos'altro. E allora forse se decidere di non decidere una decisione possiamo provare a osare. E non vale neanche la pena di continuare a far funzionare un mondo nuovo con il libretto di istruzione di quello vecchio, perché non ce la facciamo. E poi, altra cosa bellissima, possiamo ricominciare a lavorare di felicità. C'è a Rari che in Omodeo ci ricorda che una popolazione che era preoccupata di fame epidemie e guerre oggi tende alla amortalità, alla felicità e al controllo del proprio mondo. Beh, sono cose belle. Aspirare al futuro, recuperare la rete sociale. Tutto questo per dire che se il mondo corre, chi sta fermo aumenta la distanza fra sé e il futuro in ogni istante. E allora da dove partire? Molto semplicemente dal rinforzare le reti sociali e il condividere. Tema nuovo e bellissimo che sta già entrando nei modi di vita degli italiani. Riflettiamo sugli indicatori di benessere. C'è un dibattito molto fecondo su questo. Alcuni non sembrano sufficienti e io lo capisco, ma lavoriamo insieme per migliorarli invece che continuare a fare un po' la roba italiana nella quale ciascuno si fa il proprio standard perché quello del vicino non gli piace al 100%. Boh, insomma, mi sembra un dibattito che si possa fare. E allora attiviamo una riflessione non solo sullo smart working e sul lavoro un giorno alla settimana a casa, ma sul lavoro. Che cosa facciamo dai grandi? Con chi? Dove? E anche in questo ci sono molte iniziative interessanti. Reinstalliamo il futuro. È la cosa alla quale tengo di più. Ricominciamo a immaginare. Decidiamo dove vogliamo andare. E anche in questo ci sono diverse iniziative comuni. Cito in basso a destra, perché è quella sulla quale stiamo lavorando io e Alessandro, Milano 2046. La presenza del Consiglio ha istituito un laboratorio di ricerca sul futuro remoto con economisti, filosofi, sociologi e noi stiamo lanciando 12 ricerche delfi basate sul BES proprio per avere più pensieri, non per sostenerne qualcuno, ma per aumentare immensamente la quantità di riflessioni. Io sentivo stamattina il direttore di Eurostra che diceva è finita l'epoca nella quale ti chiudi tre giorni in un laboratorio e così elabori. No, no. Qui è con il mondo che si elaborano idee nuove, altrimenti siamo strani. E finisco veramente, perché ho finito. Il tema è semplicissimo. Noi possiamo pensare che il futuro ci sia stato sottratto dalle vecchie generazioni ed è un compiangimento per carità corretto in termini scientifici, ma sinceramente poco appassionante in termini di esiti, oppure possiamo pensare che il futuro ci sono stati dati in cura dalle nuove generazioni. E allora attivarci per fare questo. Io passo la vita in questo paese meraviglioso in posti inventati 500 anni fa, mille anni fa e ogni tanto mi chiede che cosa sto pensando per i prossimi 100 o 200 anni. Che questo sia romantico o meno, non lo so, sicuramente è un tema di rapporto tra modelli e politica. E io ringrazio. Molte grazie a Sergio Sorgi per queste belle parole e anche per questa visione così lunga del futuro, così lunga e così profonda del futuro. È difficile fare domande qui, però forse vale la pena. Ecco, la pubblica istruzione che si fa avanti, che non si chiama più pubblica istruzione, ma si chiama... Allora, è difficile fare domande, infatti faccio solo complimenti. Ho letto tre volte il vostro libro, tre, forse la leggo la quarta volta e compro il prossimo. Quindi questo è un complimento per voi due, lei e Rosina. E niente, il complimento è per le slide, perché probabilmente mi rimarrà in testa quasi tutto quello che ho visto, perché... E quindi chiedo se è possibile poi averle. Se me le guardo bene. Penso di sì, no? Assolutamente, posto che sono in debito enorme, perché sarei trovato il libro mio, infine, il debito è impagabile, e dopodiché assolutamente, se non viola le regole della casa, tutto il materiale che noi proiettiamo è volentierissimo a disposizione. Perfetto. Ok, grazie a voi. E poi, vabbè, chiudo con un discorso della condivisione. Io a dicembre sono passato dall'ufficio statistica all'ufficio comunicazione e quando mi hanno detto guarda, c'è una criticità, se puoi andare, diceva bene, ci vado. Comunicazione è l'ultimo passo per uno statistico, no? Cioè, divulgare, comunicare e poi mi sono accorto che la comunicazione andava riformata da una stanza all'altra, non dal ministero verso fuori. Questo lo dico non polemicamente, ma per dire che se uno si facesse dei giri nelle nostre pubbliche amministrazioni capirebbe che la condivisione che magari all'esterno può sembrare una cosa anche intelligente, no? Da fare per mettere insieme le conoscenze, le competenze, invece c'è molto da fare. Bene. Altre osservazioni o domande? Prego. Non vuol dire nome? Io sono studente di statistica alla Sapienza qui e ero interessato, lei ha citato questo fatto del voto ponderato con l'età. quindi le soluzioni per uscire da questa spirale per cui le politiche non sono rivolte ai giovani perché semplicemente siamo una fetta di elettorato che conta sempre meno. Prego. Lei sa che la cosa bella è fare le domande e non dare le risposte. Quello che noi vogliamo sollecitare seriamente è il tema che la demografia e il cambiamento delle strutture le popolazioni veramente ci richiedono pensieri completamente nuovi anche quello sui modelli di decisione per il futuro. Io sono veramente preoccupato di questo lavoro. Sono padre ho figli universitari saremmo in grado noi di toglierci qualcosa per dare qualcosa a qualcuno che non c'è e questo è un tema veramente serio è chiaro che il voto ponderato è un contributo alla riflessione evidentemente però il tema rimane come la maggioranza di anziani sia capace o debba essere stimolato nella creazione di provvedimenti orientati alla sostenibilità è un tema intrigante. C'è il voto ponderato e il voto poi maggiorato per chi ha figli è una vecchia proposta di Campiglio tra l'altro molto diciamo controversa chiamiamola così se non ci sono altri interventi io vorrei qui c'è un gender gap c'è una divisione per genere che non va bene e quindi io trascolterei perciò eccoci qua adesso passiamo a temi sì avremo ancora c'era ancora un'altra domanda no penso di no no c'è un problema tecnico ecco allora Carlo Facchini buongiorno la relazione la trasformazione per l'appunto la trasformazione delle generazioni anziane dove sto dove sto andando starò attentissimo qua repiticherei dove stiamo andando eh vabbè vabbè il tema di oggi 18 minuti 18 minuti molto molto velocemente allora il tema che ho pensato di affrontare è il mutamento degli anziani intesi come generazioni di norma si considerano gli anziani per fascia di età quindi i giovani anziani i grandi anziani i medi anziani eccetera i grandissimi anziani a me interessa invece cogliere il mutamento in termini generazionali il concetto di generazione è normalmente utilizzato per i giovani secondo me è ancora più importante utilizzarlo per gli anziani perché hanno avuto seguito quando sono nati la storia che hanno vissuto come dire ci sono stati degli elementi che li vanno a connotare in modi specifici allora vorrei appunto provare a vedere come cambiano le generazioni anche rispetto ai due lemmi del convegno di oggi cioè incertezze e scelte consapevoli allora il primo punto è il cambiamento e userei due assi di mutamento il mutamento del sistema socio-economico e i mutamenti dei modelli familiari e procreativi allora per quanto riguarda gli aspetti socio-economici vado molto velocemente però mi sembra opportuno ricordare alcune cose le generazioni meno anziane vedono una crescente scolarità nelle generazioni scusate i dati che utilizzo sono i dati del multiscopo del 2009 sono dati stupendi poco utilizzati e che hanno come dire è una ricerca che ha prestato un'attenzione specifica ai corsi di vita dei soggetti e ad altri aspetti che normalmente non sono rilevati allora la scolarità nelle generazioni più anziane una quota altissima di analfabeti che per fortuna va a diminuire il concetto di scelte consapevoli perché diminuiscono queste la quota degli analfabeti che diminuiscono per due motivi scelte consapevoli della politica c'è stato un processo di scolarizzazione obbligatoria negli anni 40 negli anni 30 negli anni 50 e c'è stata la scuola media unica nel 62 quindi scelte consapevoli della politica che hanno modificato la scolarità scelte consapevoli dei genitori che hanno diciamo così che hanno mandato i figli a scuola il più possibile con una posticipazione delle scelte la cosa interessante è che questo mutamento ha riguardato maggiormente vogliamo anche provare visto che siamo a inserire la dimensione di genere ha riguardato maggiormente le donne erano le donne quelle meno scolarizzate attualmente come dire sono le donne quelle più scolarizzate ovviamente ha riguardato più le donne ma ha riguardato ancora di più le fasce sociale più modeste erano le fasce sociali modeste ovviamente quelle che non continuavano la scuola quindi il processo di mutamento ha avuto effetti differenziati a seconda del genere e ancora di più a seconda delle classi sociali avevo preparato anche materiale poi come dire considerando i tempi ho tagliato parecchio questo si è tramutato in mutamenti che a me sembrano fortissimi mi sembrano molto interessanti questi dati per quanto riguarda l'età fine scuola le generazioni cioè più anziane spesso come potete vedere hanno smesso di studiare a dieci anni ma talvolta anche a sei o sette le generazioni successive vedono una posticipazione della fine scuola e ovviamente collegata a questo una posticipazione dell'entrata nel mondo del lavoro di nuovo fortemente differenziata seconda si può ancora usare questo termine a seconda della classe sociale quindi questi mutamenti molto forti che ci sono stati effetto insisto di due decisioni consapevoli quelle dei genitori e quella della politica che ha modificato sia il sistema formativo sia il sistema del mercato del lavoro ma le nuove le generazioni meno anziane hanno anche visto un mutamento molto interessante per quanto riguarda il tipo di inserimento nel mercato nel mondo del lavoro molto banalmente il passaggio dall'agricoltura all'industria e successivamente nelle generazioni meno anziane il passaggio al terziario se è pubblico che è privato un mutamento un passaggio dalla condizione operaia alla condizione impiegatizia un mutamento anche per quanto riguarda le modalità dell'assunzione diventano man mano irrilevanti le modalità di assunzione informali che erano invece caratteristiche dei periodi precedenti quindi una formalizzazione dei rapporti di lavoro allora la cosa che a me interessa è questo diciamo così questi mutamenti che cosa hanno comportato hanno comportato da un punto di vista sociale una decrescente incertezza hanno comportato da un punto di vista sociale che i soggetti si sono come dire non solo hanno visto migliorare le loro condizioni economiche ma è diminuita l'incertezza in cui si collocavano e l'incertezza che invece connotava le generazioni più anziane la vecchia incertezza la vecchia povertà che connotava le generazioni precedenti e questo mutamento si traduce anche a delle ripercussioni sulla condizione anziana gli anziani come dire nel giro di vent'anni la popolazione anziana è passata da essere la fascia di età ha maggiore rischio di povertà a quella che invece ha minore rischio di povertà quindi c'è stato un'estrema come evidenza di dati un'evidente inversione di rischio della povertà delle fasce adulte dalle fasce anziane scusate verso le fasce adulte quindi quello che mi interessa è il mutamento la crescita delle certezze questo fino ad ora il problema è che poi anche per gli anziani ci sono dei mutamenti in atto ed è l'aspetto che a me interessa che cosa sono i mutamenti in atto i mutamenti in atto vanno a disegnare delle nuove incertezze delle incertezze che anzitutto li riguardano personalmente e delle incertezze che noi io e una mia collega siamo a Merita Rampazzi con la quale avevamo fatto delle riflessioni su questo tema abbiamo chiamato le incertezze rifless le incertezze individuali in che cosa sono date sono date dalla posticipazione della età al pensionamento che c'è stata in questi anni basta considerare sempre i dati multiscopi il cambiamento che c'è stato dal 2001 al 2015 il tasso di occupazione tra i 55 e i 60 anni è quasi raddoppiato cioè c'è stato un forte mutamento non è detto che sia un mutamento negativo quello che a me interessa è che un mutamento che non era previsto era un mutamento in qualche misura inaspettato che si è connotato come un ritorno di una incertezza sul proprio futuro da pensionati vale per l'età e nelle prossime generazioni nel giro di 10-15 anni sulla copertura in termini pensionistici ma gli anziani sono anche dei persi santenni sono coinvolti anche dalle incertezze riflesse da quelle che riguardano i giovani i giovani sono sempre meno occupati disoccupati hanno lavori precari perché gli anziani sono coinvolti gli anziani sono coinvolti banalmente come genitori i trentenni possono essere disoccupati perché sono mantenuti dai genitori se no starebbero sotto i punti quindi come dire la incertezza crescente dei giovani ha una si ripercuote ha una diciamo così si ripercuote condizione anche comporta una nuova incertezza degli anziani questo è sul fronte del sistema economico quindi un passaggio direi da una situazione di incertezze alle certezze alle nuove incertezze questo è l'aspetto che a me interessa un ritorno delle incertezze ma c'è stato un mutamento del sistema economico c'è stato anche un mutamento dei modelli familiari anche da questo punto di vista le diverse generazioni hanno storie molto diverse tra di loro sia quelle in cui si sono inserite le generazioni meno anziane hanno meno fratelli e sorelle non sono ancora figli unici però hanno meno hanno una fratria meno numerosa sono un pochino meno sposate sono un po' di più separate e divorziate la cosa interessante a parità di età sono un pochino meno vedove quindi il concetto di generazione qua confronti dati del 2001 e del 2015 il concetto di generazione non gioca solo sulle scelte che vengono fatte ma come dire i soggetti si trovano anche confrontati con scenari che non hanno su cui non hanno giocato cioè come dire non hanno giocato nessuno hanno meno figli più frequentemente o più correttamente non sono ancora senza figli come saranno le prossime generazioni i trentenni i quarantenni tra i trenta e i quarantenni c'è la 40-50% che non ha ancora figli può darsi che li facciano con la fecondazione assistita quando ne hanno 55 ma non è scontato quindi come dire aumenteranno queste situazioni in ogni caso quello che sappiamo è una diminuzione se lo leggiamo come dire in termini di ripercussioni sulla vita dei soggetti la denatalità comporta appunto una diminuzione dei figli su cui poter contare la cosa interessante velocissimamente se i mutamenti socio-economici hanno impattato maggiormente con i ceti più modesti i mutamenti nei modelli familiari e procreativi hanno impattato maggiormente con i ceti scolarizzati a parità di classe di età sono i ceti laureati che sono più frequentemente cieli binubili più separati divorziati e con meno figli quindi come dire il mutamento è differenziato gli effetti del mutamento sono stati differenziati anche per non solo per generazione ma all'interno della generazione per le diverse classi sociali poi adesso ci sono dei dati che sono carini però andrò molto velocemente perché sono in qualche misura secondari che evidenziano come nelle generazioni sia anche le diverse generazioni siano mutate anche i modi di fare famiglia e forse anche il senso il concetto il vissuto del fare famiglia diciamo così le generazioni più anziane non facevano la festa spesso molto spesso non facevano il viaggio di nozze se facevano il viaggio di nozze giusto a Venezia e a Roma le generazioni più recenti diciamo così fanno la festa fanno il viaggio di nozze la cosa più interessante ci sono anche altri dati però mi soffermo solo su quei questa è una cosa che invece a me interessa di più le generazioni più anziane spesso adottavano un modello di residenza patrilocale i dati in questo caso sono riferiti per correttezza solo alle donne il 25% delle donne diciamo così nate prima degli anni 30 aveva la fortuna di andare a vivere in famiglia con i genitori del marito e un altro 10% aveva la fortuna di andare a vivere con i propri genitori con grosse differenze sociali se prendiamo le contadine il modello patrilocale arriva al 33% per dare l'idea e quello matrilocale un altro 13% la metà e quindi allora le generazioni più giovani adottano un modello neolocale quindi muta proprio il senso il modello io credo che sia importante sottolineare che c'è un nesso tra i modi con cui si fa famiglia e il fatto di fare o di non fare famiglia probabilmente nelle generazioni precedenti si faceva il matrimonio era talmente rilevante che si sposava comunque anche a costo di andare scusate il tè andare a vivere con i suoceri anche senza fare la festa anche senza tutte queste cose adesso uno dice pensiamoci un attimo cioè come dire sono scelte diciamo così un po' più ponderate se vogliamo ma anche la convivenza io stavo pensando la convivenza prematrimoniale io penso che faccia parte di un aumento di scelte ponderate io penso che tra 10-20 anni ci si stupirà di persone che si sposano senza prima essersi sperimentate tra di loro cioè nelle generazioni precedenti non conviveva praticamente nessuno e se si conviveva erano le fuitine probabilmente per forzare la mano a matrimoni attualmente sta diventando molto più diffuso muta il rito del matrimonio muta ed è questa un'altra cosa molto importante il regime patrimoniale nella coppia le generazioni vecchie adottavano hanno adottato il sistema della comunione dei beni la cosa interessante è che quando le generazioni vecchie si sono sposate il sistema giuridico prevedeva come norma la separazione dei beni nel 75 c'è stato il mutamento del diritto di famiglia queste generazioni hanno precipito diciamo così il mutamento normativo e si sono come dire si sono spostate sulla comunione le generazioni meno anziane sempre meno attualmente il 70% delle coppie opta per la separazione dei beni pur avendo un sistema giuridico che invece prevede altro quindi come dire è proprio cambiato le generazioni mutano cambiano i loro modi del mercato del lavoro cambiano i modi di fare famiglia ma anche secondo me come dire cambia il modello matrimoniale perché cambia il senso attribuito al matrimonio cambia il senso attribuito alla procreazione il numero meno figli io mi ricordo negli anni 60-70 si parlava di procreazione consapevole proprio rispetto all'evitare figli come dire che poi non si sarebbero potuti mantenere e fare studiare quindi quello che a me interessa è questo mutamento che c'è stato e anche qui dal certo punto di vista il passaggio verso un aumento delle certezze frutto di scelte consapevoli il problema è che anche da questo punto di vista c'è un mutamento in atto sono mutamenti di nuovo che riguardano i soggetti anziani in prima persona e sono mutamenti che li riguardano in modo riflesso mutamenti che li riguardano in prima persona a parte il fatto che ho già citato prima di non esserci sposati stanno aumentando moltissimo come è noto le separazioni degli over e nel giro di 20 anni sono più che triplicate non sono triplicate che sono aumentati i vecchi non ancora non sono aumentati perché si vive più a lungo perché è cambiata la mappa mentale dei soggetti se uno sa che normalmente può vivere a 60 anni ancora 20 anni davanti come dire preferirebbe vivere in un contesto affettivo più soddisfacente o almeno stare da solo ecco diciamo così ma queste generazioni si rapportano con i mutamenti dei giovani si rapportano con la posticipazione del matrimonio con la posticipazione delle scelte procreative con la minore propensione al matrimonio con la minore propensione alle scelte procreative dei giovani che anche questi introducono dei mutamenti nelle mappe cognitive nelle mappe concettuali dei soggetti infine si rapportano con l'invecchiamento si rapportano con l'invecchiamento a livello individuale perché si prospettano lunghe vecchiaie ma si confrontano con l'invecchiamento già presente in atto molto forte dei loro genitori a 90-95 anni sono in vita il 36% delle donne più o meno hanno fatto figli verso 35-30 anni quindi possiamo considerare un 30% delle persone tra i 60 i 70 anni hanno ancora la mamma non parte ancora il papà ma anche a 70 anche a 80 è un mutamento positivo ma che va a cambiare le mappe concettuali e introduce degli elementi di incertezza nel proprio ruolo familiare che precedentemente erano meno presenti mutano i passaggi complessivi del corso di vita dei soggetti 40-49 anni la ricerca è stata fatta nel 2009 si si tre minuti ho finito sono pochi sono nonni c'è solo una parte dei sessantenni sono 40-49 nel 2009 avevano tra i 60 i 70 anni solo la metà sono nonni hanno ancora in questa classe di età la madre vivente hanno ancora il padre vivente ma se io prendo la generazione i cinquantenni hanno ancora i nonni ci sono ancora quelli cinquantenni che hanno la nonna e la no e il nonno va benissimo cambiano però i ruoli cambiano le mappe quello che a me interessa è che anche in questo caso il presente si configura come un problematico più incerto e comunque diverso rispetto a quello che presumibilmente i soggetti si aspettavano da tutti quindi i soggetti che hanno visto un passaggio dalle incertezze vecchie dei poveri come dire l'incertezza premoderna alla certezza della modernità fatta dalle scelte consapevoli dei soggetti e della politica in questa scelta prima è stato detto vorrei ricordarlo gioca il sistema sanitario gioca la riforma cioè il mutamento all'Italia io credo che ci sia una qualche connessione tra il fatto che l'Italia ha una speranza di vita molto alta e un sistema sanitario che nonostante tutte le sue inadeguate è migliore di molti altri così come si contano le politiche che sono state fatte quindi sono scelte consapevoli che hanno modificato il corso di vita dei soggetti allora quello che però a me interessa è che in questo quadro i soggetti soprattutto i soggetti diciamo così che entrano in età anziana è un'età che a me personalmente anche molto mi interessa moltissimo per vari motivi quindi questi soggetti si confrontano in modo crescente con incertezze nuove non previste incertezze che modificano le mappe concettuali e che richiedono capacità del tutto nuovo di ripensare i ruoli le relazioni con la mamma novantenne la relazione col figlio 35enne che sta in casa e che cambia continuamente l'amorosa come dire cambiano quindi una capacità di rielaborazione di ripensamento e anche di pensare le proprie prospettive del tutto nuove sono stata anche in età grazie grazie per la questione puntualissima grazie grazie mille per questa relazione interessante abbiamo pochi giovani ma abbiamo molti giovani anziani da seguire per vedere come cambia come cambia le loro le loro mappe mentali allora domande considerazioni prego grazie corrala bate dell'istat mi vengono due riflessioni rispetto alla presentazione fatta dalla professoressa cioè una che il benessere guadagnato dalle generazioni anziane un po' si sta ritorcendo contro nel senso che pensano di passare questo benessere immagino ai figli dicendo lavorerai più tardi quando hai tutte le condizioni cosa che non c'era prima prima il malessere dei genitori anziani portava il figlio ad andare subito a sposarsi a lavorare in qualunque cosa quindi un po' addirittura qualche volta diciamo uno chiede un aumento delle pensioni perché deve mantenere i figli oppure si sostituisce addirittura allo stato cioè mi occupo io di mio figlio anziché lo stato di trovargli un lavoro insomma e questa è come prima riflessione la seconda era questa appunto ritorsione del benessere acquisito dagli anziani l'altra era sulle separazioni degli anziani se per caso è possibile vedere capire quanto le tasse abbiano inciso in queste decisioni con evitare l'imu e quindi separazioni non per motivi affettivi che uno vuole stare da solo a 70 anni scopre il bello di essere single oppure c'è diciamo un motivo fiscale dietro che ci si intesta una casa a testa per evitare l'imu grazie grazie hai delle risposte allora scusami ricerche sulle separazioni grigie credo che l'aspetto diciamo così fiscale sia secondario cioè io credo che non mi sembra difficile ipotizzare che riguardi che sia come dire l'elemento fondante anche perché se fosse questo l'elemento fondante riguarderebbe anche quelli che sono sposati da 15 anni cioè non necessariamente solo questo aumento vertiginoso enorme degli anziani che si separano se avesse una motivazione di tipo fiscale lo potremmo trovare anche in altre classi di età quindi io credo che ci sia invece una specificità molto forte invece mi sembra molto interessante l'altra considerazione che lei ha fatto e a me io insegno sociologia della famiglia io credo che sia molto importante intrecciare i mutamenti che avvengono in alcune fasce di età con le ripercussioni che riguardano le altre classi di età quindi a me interessava rimarcare questa relazione e da questo punto di vista anche io credo che se vogliamo essere provocatori la ridotta occupazione dei giovani trovi una sponda nel miglioramento delle condizioni economiche dei loro genitori se i loro genitori avessero condizioni economiche molto problematiche i giovani accetterebbero anche condizioni di lavoro diciamo così non non ottimali quindi io credo che ci sia questo aspetto ci sono un'altra domanda rapidissima se no non abbiamo più tempo per l'ultima relazione prego velocissimo buongiorno io sono Eleonora Melli dell'ISTAT allora intanto volevo dirvi che quei dati si possono aggiornare al 2016 quindi possiamo andare a vedere come cambiano effettivamente queste dinamiche l'aspetto che volevo invece in qualche modo porre alla professoressa era su quando viene a mancare la rete ascritta quindi quando la famiglia si assottiglia perché diminuiscono il numero di fratelli diminuisce il numero di figli quello che noi abbiamo un po' sottolineato nel rapporto annuale di quest'anno è come invece viene ad aumentare l'importanza della rete elettiva quindi come ci si allarga soprattutto rispetto a diversi temi rispetto alla partecipazione culturale all'associazionismo quindi tutto quello che diventa rilevante nella vita delle persone rispetto alle cose che si fanno e alle esperienze di vita che si hanno non all'interno della propria famiglia ma allargandosi quindi alla rete elettiva e al vicinato la ringrazio moltissimo ma come dire questa poi è la puntata per il prossimo anno però io credo che ci sia allora il mutamento in atto tenderà a comportare un aumento di solitudini cioè a Milano è già molto evidente questo fenomeno tenderà a comportare sottolineo la cosa interessante è che di nuovo riguarderà maggiormente le donne e riguarderà maggiormente i ceti scolarizzati e sono le donne scolarizzate quelle che si sono sposate meno che hanno avuto meno figli e che sono più soggetti a separazioni e divorzi dopodichè i loro compagni spesso si risposano le donne per scelto per necessità meno quindi l'aumento di solitudini allora rispetto a questo quadro io credo che sia molto importante il ragionare sugli altri contesti di riferimento cioè nel senso che in una situazione in cui il contesto familiare è stretto il contesto ascrittivo va a ridimensionare in qualche misura il proprio ruolo tendenzialmente diventeranno molto più rilevanti le reti sociali esterne quindi le reti amicali le reti che si costruiscono per scelta diciamo così e che vanno ricontrattate in modo continuativo diciamo quindi io credo che ci sia un mutamento di questo genere e credo se ragioniamo in termini di scelte consapevoli che le politiche dovrebbero prendere atto anche di questo mutamento e di ragionare rispetto alle nuove problematicità che avranno i nuovi anziani grazie direi di passare adesso alla relazione di giustina orientale Caputo grazie della Federico II e il tema è chi va e chi viene chi va e chi viene giovani italiani e giovani stranieri tra migrazioni internazionali e trasformazione del mercato del lavoro grazie non solo intervenire per ultima dopo delle relazioni così belle difficilissime ma anche intervenire fuori tempo massimo nel senso quando finivamo 5 minuti fa abbiamo avuto però un bonus dato a ritardi non dovuti a noi per motivi tecnici come dicono le ferrovie certo questo però diciamo non 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 mi esonera dal dire che sarò cercherò di essere anche più veloce dei miei 18 minuti e che soprattutto diciamo vi svelo subito come spesso amo dire qual è l'assassino cioè qual era l'idea e la diciamo suggestione la riflessione che provavo a fare che ho provato a fare per la preparazione di questo di questo intervento e che vi propongo subito e cioè che noi siamo abituati per naturalmente riduzione della complessità della realtà a ragionare finora siamo stati abituati a studi che lavoravano sulle emigrazioni cioè negli anni passati quando il nostro carattere era quello di essere un paese a forte diciamo valenza migratoria quando i nostri se ne andavano diciamo negli anni 60 poi abbiamo cominciato ad essere un paese di immigrazione senza perdere la valenza di paese di immigrazione ma abbiamo cominciato a studiare e a osservare maggiormente questo fenomeno nuovo è delle immigrazioni io penso che sia arrivato il momento non lo penso da sola sono naturalmente sopportata da molti più autorevoli studiosi di me che sia arrivato il momento di mettere insieme questi studi cioè di leggere contemporaneamente quello che accade alle emigrazioni in un paese che è croceviglia di ancora arrivi ma anche di partenze che non solo non si sono interrotte ma sono negli ultimi decenni riprese e che guardare complessivamente a quelli che sono i movimenti che avvengono in questo paese significa interrogarsi sul futuro del paese soprattutto perché questo e qui svelo come dicevo prima l'assassino cioè quella che è la mia idea che non riguardano soltanto come dire caratteristiche e flussi e diciamo caratteristiche individuali e di soggetti che se ne vanno non vengono ma che dipendono dalle trasformazioni e dalle condizioni del mercato del lavoro quello che voglio dire è che io ho la sensazione che il nostro paese non abbia ancora chiaro che cosa vuole fare del suo futuro non solo dei suoi giovani ma neanche di quelli che vengono qui perché non ha idea o soprattutto come diceva Carla forse ce l'ha e è un'idea che non ci piace di una come dire costruzione di mercato del lavoro che ha delle falle notevoli che le ha avute negli anni passati che continua ad averle e che diventano ancora più problematiche a fronte di movimenti come quelli che stiamo osservando di giovani che continuano ad andarsene come dicono il titolo e di giovani che nati qui crescono qui ma che non hanno condizioni adeguate per poter essere poi risorsa di questo paese questi sono i punti che ho pensato che ho attraversato non ve li presenterò tutti vi dico soltanto che una delle cose che mi intriga sempre di più è lavorare sugli stereotipi e anche quando ho guardato alla popolazione i dati dei giovani stranieri che sono arrivati o che crescono qui o di quelli che se ne vanno quello che mi aiutava a ragionare erano questi due stereotipi che conoscete meglio di me non ve li racconto l'invasione degli stranieri che diciamo è retorica non solo ma diciamo fortemente politica ma anche quella della fuga dei cervelli anche questa è una retorica come vedremo dai dati in realtà non se ne vanno solo i cervelli se ne vanno cioè quelli esatto anche le braccia quelli più scolarizzati ma anche quelli di me la ripresa delle migrazioni italiane non ha significato diciamo una diminuzione degli arrivi ma una stabilizzazione e entrambe queste componenti fanno i conti come dicevo prima con un mercato del lavoro che si trasforma si trasforma poco e male questi sono semplicemente i dati sulla popolazione perché appunto guardavo alla popolazione a quanto pesa la popolazione giovanile a quanto peserà in futuro ce l'hanno raccontato i relatori di prima e a quanto su questa popolazione contribuisce la popolazione straniera sono l'8% di quella residente non mi soffermo li conoscete questi dati sono quasi il 2% di quelli della popolazione straniera fino a 18 anni lo 0,7% di 18-24 anni il 2,5% di 18-24 insomma una quota che è significativa in fasce di età strategica se guardiamo al futuro cioè abbiamo giovani di seconde generazioni anche di generazioni 1,5 secondo diciamo le note classificazioni delle generazioni che hanno un impatto demografico molto importante potrebbero avere un impatto demografico importante sul nostro paese se solo riuscissimo a guardare e farci conti sul serio la presenza si è triplicata dal 2001 ad oggi e oggi stiamo assistendo ad una stabilizzazione gli stranieri nati in Italia rappresentano il 14% delle nascite ma il 19% se consideriamo i nati dalle madri straniere e gli stranieri sono quasi il 14% dei bambini con meno di 5 anni gli elementi che mi sono diciamo che mi hanno interessato che ho guardato anche per alcune ricerche che in questo periodo sto conducendo sono le relazioni delle seconde generazioni a scuola e quindi i loro processi di integrazione e nel mercato del lavoro i dati che vengono dal MIUR parlano di una popolazione vedete di alunni con cittadinanza non italiana che cresce significativamente quindi in questo senso potremmo dire che la nostra è una società che le accoglie e guardate la loro distribuzione per ordine di scuole è cresciuta molto diciamo è cresciuta la loro presenza nelle primarie ma è cresciuta anche la loro presenza nelle scuole secondarie di secondo rado questo purtroppo non vuol dire che ha contemporaneamente la nostra società dato avvio ad una reale integrazione sono quelli che hanno i percorsi più accidentati i livelli di dispersione maggiori gli insuccessi maggiori eppure vi do soltanto un'informazione che proviene da una ricerca che sto conducendo insieme a dei colleghi demografi e pedagogisti nelle scuole napoletane di secondarie di primo grado i bambini straniere con cittadinanza non italiana che sono nelle nostre scuole secondarie intervistati in focus anche molto interessanti sono quelli che mostrano con più determinazione il desiderio di utilizzare la scuola come diciamo chance per entrare nel mercato del lavoro credono molto di più a questa possibilità come i loro genitori un dato su tutti dai focus che ho fatto con questi bambini la maggior parte dei ragazzini e delle ragazzine a cui chiedevo che vuoi fare da grande tenete conto che lavoriamo sul centro storico di Napoli quindi quartieri ad alto degrado ad alta diciamo percentuale di povertà disoccupazione eccetera la maggior parte dei ragazzini voleva fare il calciatore e delle ragazzine la ballerina la maggior parte dei ragazzi con cittadinanza non italiana voleva fare il medico uno mi ha detto voglio fare l'anatomopatologo due volevano fare gli archeologi e gli informatici non scendo nel dettaglio se hanno dei livelli di aspettativa troppo alti rispetto alle loro possibilità certamente rispetto al futuro c'è e soprattutto rispetto alla scuola un atteggiamento diverso parliamo invece dei nostri che se ne vanno la ripresa della mobilità interna è stato tema che diciamo dall'inizio del 2010 2011 anche come dipartimento di scienze sociali abbiamo ripreso a studiare la mobilità interna e il pendolarismo di lungo raggio le migrazioni temporane per lavoro sono un tema che ha cominciato ad essere di grande interesse e anche nel confronto con le migrazioni di un tempo dà delle indicazioni interessanti così come la ripresa dei flussi migratori verso l'estero presenta caratteristiche assolutamente diciamo nuove e interessanti non scendo nel merito di come si rilevano questi dati di quali sono i problemi né di quanto interessante è guardare le motivazioni le fasi i percorsi e le scelte di questi soggetti possiamo soltanto dire che l'immigrazione italiana è diventato da fenomeno diciamo marginale fenomeno non trascurabile non solo per i numeri ma anche per la qualità delle caratteristiche per quello che ci dice in termini sociologici di quello che vi dicevo prima sta succedendo o non succedendo nel nostro mercato del lavoro vado veloce su i dati per quanto vi dico che le cancellazioni per l'estero sono cresciute anche dopo la crisi economica che l'Italia diciamo è uno di quei paesi che si differenzia dal resto dell'Unione perché da noi la crisi ha determinato un livello di partenza di stranieri decisamente superiore a quella degli arrivi e le perdite migratorie nel nostro paese sono state partiamo da un meno 7.800 persone nel 2008 a 80.000 nel 2016 quindi i saldi migratori con l'estero dei cittadini italiani sono significativi vedete le iscrizioni dall'estero sono decisamente inferiori rispetto alle cancellazioni che gli italiani fanno per andarsene fuori e come ben sapete non è detto che la cancellazione dall'anagrafe avvenga nel momento in cui te ne vai l'evento della migrazione rispetto alla cancellazione come sanno bene gli studiosi di migrazione demografica è significativa nella tabella che vi mostro ora quello che diciamo mi pareva interessante sottolineare che mi sembra interessante sottolineare che se ne vanno un po' più uomini che non donne ma non non è tanto forte il divario di genere che non se ne vanno diciamo in prevalenza i giovani ma il 50% ha fra 20 e 39 anni quindi vanno nell'età attiva e che a differenza di quello che dicevamo all'inizio la fuga dei cerdelli se guardate la distribuzione dei titoli di studio dei soggetti che se ne vanno è praticamente un terzo con la licenza media un terzo è diplomato e un terzo è laureato da dove provengono a differenza di quello che era diciamo l'immagine di un tempo provengono più dal centro nord che non dal mezzogiorno in questo naturalmente c'è anche da misurare e da considerare le migrazioni interne cioè che poi dal mezzogiorno se ne vanno al nord e spesso dal nord vanno diciamo all'estero ma il dato è che il 70% proviene dal centro nord e se ne vanno per lo più nei paesi dell'Unione Europea non mi soffermo sulle migrazioni quanto sulle trasformazioni del mercato del lavoro per dire che abbiamo superato negli ultimi anni la soglia simbolo di 5 milioni di italiani stabilmente residenti all'estero se considerate che sono 5 milioni e 800 mila gli immigrati presenti da noi capite bene che cosa intendevo quando volevo ragionare su due aggregati che mi sembrano non solo numericamente ma anche per caratteristiche molto simili dove ce ne andiamo per lo più in Germania se consideriamo tutte le classi sociali nel Regno Unito se consideriamo solo le classi di età più giovanile l'emigrazione giovanile a bassa scolarizzazione non è meno significativa di quella ad alta scolarizzazione ma entrambe queste componenti scontano la derogolamentazione e la pregarizzazione del mercato del lavoro non solo italiano ma anche europeo cioè quello che viene da osservare è che questi soggetti un tempo se ne andavano ed erano certi più o meno di trovare una collocazione a bassa o ad alta formazione scolarizzazione che fossero oggi i nostri giovani così come gli immigrati che arrivano nel nostro paese o che crescono nel nostro paese si trovano complessivamente di fronte a un mercato del lavoro che è più problematico che è più precario che non dà certezza non solo di collocazione ma anche di stabilità queste sono le relazioni che noi abbiamo misurato con il Regno Unito e guardate la differenza per titolo di studio cioè i nostri giovani perché sono prevalentemente giovani quelli che si sono trasferiti in questi anni nel Regno Unito per il 70% hanno fino al diploma e il 30% è lavorato alla stessa maniera quelli che se ne vanno in Germania che vi ho detto sono i due paesi principali ultime considerazioni sulla problematicità e sulle caratteristiche del mercato del lavoro che questi nostri giovani italiani o stranieri trovano se guardate il tasso di occupazione quelli in rosso sono i maschi stranieri la seconda linea è quella delle donne straniere poi la viola è quella dei maschi straniere le donne italiane hanno i tassi di occupazione più bassi di tutti a che cosa mi serviva questo non solo a sottolineare anche che quello era un grafico che mostra l'andamento dal 2005 al 2016 mostrando chi ha avuto una maggiore penalizzazione ma quello del 2017 continua a mostrare un mercato del lavoro che vede un'occupazione maggiore per i maschi che non per le femmine se la guardate distribuita nelle circoscrizioni è naturalmente molto più alta al nord che non al sud tenete conto che questa differenza di tasso di occupazione tra le regioni del nord e le regioni del sud nel 2017 è pari alla differenza percentuale che c'è tra i tassi di occupazione della Germania e i tassi di occupazione della Grecia quindi abbiamo un mercato del lavoro che presenta divari troppo pesanti e complessivamente il nostro tasso di occupazione è ben al di sotto di quello dell'Unione Europea per i tassi di occupazione viviamo una situazione per cui le donne straniere sono quelle più penalizzate ma le donne italiane non stanno meglio e che se è vero di nuovo che la distribuzione vede una maggiore disoccupazione al sud che non al nord c'è anche da dire che persino la partecipazione nel mercato del lavoro e nelle regioni del mezzogiorno per gli italiani e anche per gli strani è molto peggiore quali sono e con questo concludo le questioni che io penso il mercato del lavoro italiano dovrebbe affrontare sia per i nostri per quelli italiani che per gli strani i problemi che da sempre cioè almeno da 30 anni dobbiamo affrontare quello dell'occupazione abbiamo un gender gap troppo pesante con differenziali sarealeali che non ci consentono di confrontarci con l'Europa che oggi l'occupazione non standard rispetto a quella standard ha un peso così elevato che non consente la costruzione di strategie di scelte di vita anche rispetto a quello che ci raccontava prima Carla che il dualismo nord-sud è feroce e che i pochi laureati che abbiamo perché continuiamo ad essere un paese che ha bassi livelli di scolarizzazione complessivi e bassa presenza dei laureati sono troppo pochi rispetto al resto del paese e questo penalizza anche i giovani che sono arrivati da fuori la disoccupazione è in calo ma la disoccupazione giovanile della fascia 15-24 al 34% e guardate la differenza tra due regioni la peggiore provincia italiana per disoccupazione è quella di Foggia che presenta una disoccupazione giovanile del 64% la migliore è la provincia di Venezia che presenta l'8% di disoccupazione significa che siamo due paesi completamente diversi ma è ancora pesante anche forse di più la mancata partecipazione e il tasso di netto dei nostri giovani insomma se noi vogliamo guardare al futuro delle generazioni giovani stranieri o italiani che ci servono entrambi e poi li vogliamo fare circolare è dal mio punto di vista sul lavoro che dobbiamo cominciare a riflettere quando Sorgi diceva che cosa vogliamo fare per reinstallare il futuro nel presente io penso che dobbiamo ripensare seriamente a politiche del lavoro e a mercati del lavoro che siano inclusivi sia per i giovani italiani che per quelli stranieri grazie grazie mille direi che proprio che la velocità non è andata affatto a scapito della chiarezza di quanto ha detto con la stessa velocità anche perché l'ora veramente abbiamo fatto un po' tardi ancora due brevissime una brevissima domanda se c'è prego allora innanzitutto mi fa piacere che i dati del MIUR mi risultano all'unità addirittura perché mi sono occupato anch'io di alunni stranieri quindi volevo dire questo a parte la percentuale di stranieri al sud che è bassissima e quindi sembrerebbe che abbiano capito dove sta il lavoro e se ne vanno al nord giustamente e forse anche i nostri fanno così sono immigrati ma le considerazioni delle strutture del mercato e anche di welfare le fa e poi niente una domanda anche interessata volendo fra 12 anni 15 anni al massimo dovrei essere in pensione questa fuga degli anziani con le pensioni che vanno a Santo Domingo in Portogallo in Romania cioè ha iniziato sia l'Istat che magari qualche università a studiare il fenomeno sì nelle slide avrà visto ci sono dei riferimenti bibliografici e non mi sono soffermata Enrico Pugliese nell'ultimo lavoro quelli che se ne vanno che sembra essere un libro sui giovani che invece è anche sulle generazioni più anziane racconta e prende in considerazione questo fenomeno ma non è l'unico l'IRPS per esempio l'istituto di ricerca sulle popolazioni ha fatto di recente un approfondimento anche proprio sugli anziani che vanno via le condizioni appunto migliori che trovano da quelle parti dal mio punto di vista con una necessità di guardare i fenomeni appunto nel loro complesso perché questo depaupera poi ovviamente il paese crea un un apparente diciamo alleggerimento di quello che è il nostro sistema e continuerà a creare secondo me problemi anche successivi comunque si li trova e sono anche molto interessanti io mi sono occupata di giovani anche perché appunto io studio sia quelli che se ne vanno che quelli che vengono giovani tra un po' comunque gli anziani che emigrano e che vanno che risiedono in paesi caldi piacevoli economici eccetera ci sono dappertutto gli italiani sono una proporzione molto minore di quanto non sia per gli inglesi francesi tedeschi gli americani stessi eccetera quindi è un fenomeno ancora direi sul nascere ma forse proprio per quello mi permetto di dire forse proprio per quello che diceva Carla e cioè ancora da noi i nuclei familiari e cioè le pensioni che ancora esistono degli anziani mantengono le popolazioni più giovani che sempre citando l'ultima cosa che dico Enrico Pugliese che è stato il mio maestro già 20 anni fa negli anni 80 diceva non è che c'è più disoccupazione perché c'è più famiglia quando dicevano che i disoccupati napoletani e meridionali erano tali perché c'era la famiglia che li proteggeva lui diceva c'è più famiglia perché c'è più disoccupazione cioè l'unica possibilità di arginare le conseguenze della disoccupazione è la presenza della famiglia che da sempre in Italia ha sostituito le strutture un'ultima domanda prego Facioni dall'Istat ho visto che analizzava ed era molto bello anche il tasso di disoccupazione delle donne straniere rispetto all'italiana eccetera ora avete anche visto se il paese di provenienza influisce perché risulta che c'è un fortissimo dislivello a seconda del paese di provenienza del rapporto da occupazione e non occupazione in alcuni casi addirittura migrano per genere migrano prima le donne perché sanno di trovare lavoro ecco quindi naturalmente non sono scesa nel dettaglio però è chiaro che così tengo conto che l'immigrazione è un fenomeno composito complesso migrano delle popolazioni delle componenti nazionali anche soltanto femminili ma da sempre in Italia le prime migrazioni quelle diciamo degli anni settanta erano maschili tutte provenienti dai paesi dell'Africa del nord e femminili tutte provenienti dall'Asia il canale della chiesa le filippine eccetera avevano collocazioni nel mercato del lavoro completamente diverse a partire dagli anni novanta quelle dall'est sono migrazioni per lo più femminili poi dopo al seguito gli uomini certamente sono diverse anche le loro collocazioni sul mercato del lavoro e i loro tassi di occupazione e disoccupazione quello che è pesante è vedere che aumentano i tassi di disoccupazione anche delle popolazioni e delle componenti migratorie come quelle femminili ucraina e moldave che invece un tempo erano più occupate ma questo è bene grazie mille io grazie mille a Giustina Orientale a Carla Facchini a Marco Marzili a Sergio Sorgi a Federico Barbellini a Midei grazie agli organizzatori grazie a Sabrina Prati con cui sono stato in contatto e buon prosieguo di giornata grazie arrivederci che orrore cosa ha fatto che brutta di che abbiamo un po' sforato però vabbè eh da quelli che adesso hanno che facciano a a 20 anni a 20 20 a 20 20 a a 20 20 21 a a 21 a 20 a 21 Grazie.